Lezione 30 del mio corso di Scienze della Terra. Questa è l'ultima lezione del corso. Parleremo dei cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo. Vedremo quali sono le interazioni tra le varie geosfere del pianeta. Parleremo dell'antropocene, l'era geologica in cui ci troviamo adesso, ovvero dove le attività umane sono diventate una vera e propria forzante importante quanto le altre per gli eventi geologici e climatici globali. E poi diamo un'occhiata al futuro che ci aspetta. E cominciamo. Cominciamo a vedere che cos'è l'effetto serra. Alcuni gas in atmosfera, chiamati appunto gas serra, trattengono il calore del sole negli strati vicino al suolo. Senza questo fenomeno la Terra sarebbe troppo fredda per essere abitabile. Quindi l'effetto serra è una cosa buona se presa a piccole dosi, perché permette alla Terra di essere un posto favorevole alla vita, un posto dove l'acqua riesce ad essere allo stato liquido e un ambiente così temperato dove l'acqua riesce ad essere allo stato liquido è un ambiente favorevole alla vita. Come funziona? I raggi del sole entrano dall'atmosfera, riscaldano il suolo, il suolo rimette questi raggi di luce sotto forma di calore e questo calore non riesce più ad uscire dall'atmosfera, perché alcuni gas se lo trattengono. Però le attività umane stanno immettendo in atmosfera altre quantità di questi gas e stiamo di fatto modificando la sua composizione chimica. Una maggiore quantità di gas serra in atmosfera si traducono in un maggior riscaldamento. Nell'ultimo secolo abbiamo assistito a un riscaldamento della troposfera. Una parte di questo riscaldamento ha sicuramente una componente naturale e non artificiale, ma buona parte del riscaldamento che stiamo vivendo oggi sono dovute alle attività umane. Come lavorano questi gas serra? La Terra assorbe le radiazioni solari sotto forma di onde corte che riescono tranquillamente ad attraversare l'atmosfera e a riscaldare il suolo e poi le rilascia sotto forma di onde di calore o onde lunghe. Queste non riescono a ritornare nello spazio perché vengono trattenute da alcuni gas che compongono l'atmosfera. Questi gas, trattenendoli e riscaldandosi, riemettono questo calore verso il suolo mantenendo calda e ospitale per la vita gli strati più bassi della troposfera. Qui vediamo un'immagine della Terra vista dallo spazio. Questa è nell'infrarosso. Vediamo il lato diurno illuminato dal Sole e il lato notturno che, osservato all'infrarosso, vediamo emettere luce. Da notare che all'infrarosso l'atmosfera non è trasparente come nel visibile ma appare opaca proprio perché la luce riesce ad attraversare l'atmosfera rendendola trasparente e permettendoci di vedere con i nostri occhi dallo spazio la superficie terrestre attraverso l'aria. Mentre per il calore non è trasparente, è opaca. Infatti vediamo che questa luce infrarossa non ci permette di vedere la superficie terrestre. Ci fa vedere lo strato di vaporeacquio che avvolge il mondo. Infatti non riusciamo a vedere la superficie terrestre perché vediamo il vaporeacquio opaco e quindi non più trasparente. È proprio questa caratteristica che rende il vaporeacquio e altri gas gas serra perché non fanno uscire facilmente questa luce infrarossa dalla Terra e disperdesi nello spazio ma la trattengono mantenendo calda la superficie terrestre. Ed è così che appare l'immagine della Terra osservata alla luce infrarossa. Questa luce non la possiamo vedere con i nostri occhi perché sono onde lunghe. Questa immagine all'infrarosso del lato notturno terrestre ci mostra come la radiazione solare che la Terra assorbe durante il giorno viene riemessa di notte sotto forma di onda elettromagnetica infrarosso, quindi di calore. Ma non lo fa in modo immediato, lo fa lentamente permettendo a parte di questo di permanere più a lungo sulla superficie terrestre mantenendo confortevole il nostro ambiente e ce ne accorgiamo quando andiamo in montagna. Gli strati più bassi dell'atmosfera contengono abbastanza gas a serra da trattenere del calore e quindi sono favorevoli alla vita. Basta andare più in alto in quota, quindi allontanarsi dagli strati più bassi dell'atmosfera ed ecco che cominciamo a sperimentare il calore che compete alla Terra. Infatti meno calore viene trattenuto ad alta quota e vediamo che appena saliamo di quota la temperatura non permette più all'acqua di essere allo stato liquido e quindi le cime delle nostre montagne sono coperte di neve e di ghiaccio. Se non ci fosse l'atmosfera o questo effetto serra, tutto il pianeta sarebbe coperto di ghiaccio, quindi l'effetto serra permette al pianeta di avere una temperatura media più alta di 33 gradi e questo è fondamentale per avere un ambiente confortevole alla vita. Quali sono questi gas che trattengono il calore? In maggior parte è vaporeacquio, al secondo posto abbiamo l'anidride carbonica, poi metano e ozono. Questi sono i principali gas che trattengono il calore nell'atmosfera. Senza questi gas la temperatura media del mondo sarebbe di meno 18 gradi centigradi, ma grazie a loro invece è di 15 gradi centigradi, quindi 33 gradi in più. Questo fa la differenza tra un vasto pianeta coperto di ghiaccio, quindi un ambiente gelido e deserto, inospitale alla vita, al paradiso biologico che conosciamo oggi, dove in ogni angolo della Terra l'ambiente è favorevole ad ospitare complesse forme di vita, dai deserti più aridi fino alle foreste pluviali. Solamente il 10% della Terra oggi è completamente coperto di ghiaccio e inospitale alla vita e corrisponde all'Antartide e all'Agorellandia. Se non ci fosse questo effetto serra, l'intero pianeta sarebbe come oggi è l'Antartide. Quindi è molto importante il concetto di bilancio energetico. La metà della radiazione solare che colpisce il pianeta non raggiunge il suolo, ma viene riflessa nello spazio o assorbito dall'atmosfera. Qui vediamo uno schema che mostra le varie percentuali. Abbiamo un 5% di radiazione che viene riflesso negli strati più alti dell'atmosfera, un 20% riflesso dalle nubi, un altro 20% non arriva a Terra ma viene assorbito dall'atmosfera e dalle nubi stesse, un altro 5% che raggiunge invece la Terra viene riflesso nello spazio. Quindi un buon 50% della radiazione solare non riesce a raggiungere il suolo. Il 50% invece che raggiunge il suolo lo riscalda, ma una volta scaldato questo suolo riemette questa radiazione sotto forma di calore. A questo punto il calore, la radiazione rimessa, ha una lunghezza d'onda diversa da come era entrata e non riesce a riattraversare l'atmosfera come ha fatto prima. Viene anzi intercettato dai gas a serra e trattenuto. Questi gas a serra riassorbono il calore emesso dalla Terra e lo riemettono a loro volta. Una parte si perde nello spazio e l'abbiamo visto in quest'immagine dove la Terra riemette questo calore nello spazio sotto forma di onde infrarosse. Un'altra parte invece viene rirradiata verso la superficie terrestre, riscaldando ulteriormente la superficie e mantenendo la temperatura del pianeta a 33 gradi in più rispetto a come sarebbe se non ci fosse questo fenomeno importantissimo che ci permette di vivere sulla Terra. L'effetto serra non avviene solamente sulla Terra, ma anche sugli altri pianeti del Sistema Solare, solo che in questo caso il fenomeno ha delle intensità molto diverse. Su Venere l'effetto serra è catastrofico. Il calore accumulato dall'atmosfera è talmente elevato che la temperatura superficiale rasenta i 480 gradi centigradi, mentre su Marte l'atmosfera è troppo sottile e troppo povera di gas a serra per poter trattenere il calore radiato dal Sole e questo non è sufficiente a mantenere abitabile il pianeta. Infatti su Marte la temperatura media è di molte decine di gradi sotto lo zero. A volte può capitare che all'equatore si raggiunga lo zero termico, ma comunque la pressione atmosferica non è sufficiente a mantenere l'acqua allo stato liquido con quella temperatura. E quindi i due pianeti più vicini alla Terra, Venere e Marte, non hanno un effetto serra idoneo per la vita. Infatti su Venere abbiamo un effetto serra catastrofico che trasforma il pianeta in una fornace a 480 gradi. Su Marte invece l'effetto serra è troppo limitato o assente da non permettere al pianeta di trattenere abbastanza calore e rendere la sua superficie un ambiente favorevole alla vita. Solamente sulla Terra abbiamo un effetto serra nelle giuste condizioni per poter permettere alla sua superficie un ambiente favorevole a mantenere acqua liquida e quindi anche allo sviluppo della vita. Quindi se l'effetto serra è una cosa così favorevole per la vita, così positiva, tanto che fa la differenza tra un pianeta ospitale come il nostro e gli ambienti totalmente inospitali che osserviamo sui nostri vicini planetari. Perché oggi se ne parla in modo così negativo e viene visto come un problema dalla politica, dai media, dagli scienziati e dall'opinione pubblica? Perché oggi sta succedendo qualcosa. Nell'ultimo secolo le attività umane hanno immesso in atmosfera grandi quantità di gas serra. Bruciando petrolio e carbone abbiamo immesso in atmosfera un'enorme quantità di CO2, anidride carbonica, che dall'epoca preindustriale ad oggi è quasi raddoppiata, aumentando del 150%. Siamo passati dallo 0,028% o 280 parti per milione nel 1860 allo 0,040% oggi o oltre 420 parti per milione. E questo non sta diminuendo, anzi sta accelerando, è previsto che entro 2100 la CO2 in atmosfera raddoppierà ancora, arrivando allo 0,080% o 800 parti per milione. E questo non riguarda solamente l'anidride carbonica, ma anche il metano, che da solo è un super gas serra. Una molecola di metano inquina o riscalda quanto 23 molecole di CO2, quindi è un gas serra 23 volte più potente della CO2. Per nostra fortuna reagisce con l'ossigeno e permane molto meno in atmosfera, ma anche questo sta aumentando. Infatti è passato dallo 0,78 parti per milione nel 1860 fino a 1,76 parti per milione oggi. Quindi anche questo, secondo un dato del 2021, è aumentato del 160%. Come già detto però, a differenza della CO2, che è un gas che permane per molti decenni o secoli nell'atmosfera una volta emesso, il metano CH4 reagisce con l'ossigeno e si scompone in acqua e anidride carbonica. Quindi tutto questo metano in realtà subirà delle trasformazioni chimiche e verrà rimosso naturalmente dall'atmosfera. Quindi non avrà grandi effetti a lungo termine. Quello che preoccupa oggi gli scienziati è l'aumento di CO2, che una volta emesso in atmosfera può permanervi per diversi secoli, prima di essere riassorbito dalla fotosintesi delle piante e dagli oceani. Però è pur vero che le attività umane non solo stanno immettendo anidride carbonica in atmosfera, ma stanno distruggendo quei meccanismi di rimozione naturale, con la deforestazione, che tramite incendi e agricoltura stanno distruggendo il meccanismo naturale che riassorbe la CO2 dall'aria, e con il riscaldamento globale, che aumentando la temperatura degli oceani ne stanno limitando la loro capacità di assorbire questo gas dall'atmosfera. Quindi le attività umane non si limitano solamente a immettere altro gas serra in atmosfera, ma anche a compromettere e a danneggiare quei meccanismi naturali della biosfera che lo sottraggono naturalmente, rallentandone quindi ulteriormente la sua rimozione e allungando i tempi di permanenza, e quindi i danni che questo può arrecare al sistema climatico terrestre. Infatti, nell'ultimo secolo è stata osservata una correlazione tra l'aumento di gas serra in atmosfera e l'aumento delle temperature medie globali. Abbiamo dati diretti di misurazioni, dal 1860 ad oggi, che dimostrano come le temperature medie globali stanno aumentando piano piano nel tempo, e questo aumento è perfettamente sovrapponibile con l'aumento della concentrazione di gas serra. Infatti, in questo grafico vediamo, sulla serie Y, due valori. La concentrazione di elaccio 2 in atmosfera, espressa in parti per milione, e la temperatura medie globali. Vediamo che dal 1850 ad oggi le due curve salgono e combaciano perfettamente. Vediamo un aumento delle medie stagionali estate-inverno, qui vediamo la variazione estate-inverno che però presenta una tendenza all'aumento, che ricalca esattamente l'aumento della concentrazione di gas serra in atmosfera, che dal secondo dopoguerra ad oggi è accelerata, perché dopo la seconda guerra mondiale, prima l'Occidente e poi anche molti altri paesi del mondo hanno conosciuto uno sviluppo economico senza precedenti che ha portato al consumo di grandi quantità di combustibili fossili, sia per il trasporto che per la produzione energetica e di massa di cibo e cose. E qui vediamo proprio la curva che impenna verso l'alto proprio negli ultimissimi anni, perché negli ultimi anni, dopo il 2000, si sono aggiunti all'Occidente i paesi del sud-est asiatico, la Cina, l'India e tante altre nuove economie emergenti che stanno aumentando il loro consumo energetico, ma anche di suolo, perché quando un paese diventa ricco aumenta il consumo di carne. Quindi negli ultimi decenni c'è sempre una maggiore porzione di popolazione umana che genera un consumo maggiore e quindi aumenta l'inquinamento del sistema terra. Quelli di questo grafico sono dati diretti, ovvero sono stati misurati, perché dal 1850 ad oggi esistono strumenti di misura e registrazioni abbastanza dettagliate e quindi abbiamo potuto costruire questo grafico e avere un'idea chiara di quello che è successo negli ultimi due secoli. Però è stato possibile ricavare in modo indiretto dati molto più antichi. Infatti un grande progetto di perforazione in Antartide, ma non solo, ha permesso di raccogliere molti dati sulle variazioni termiche globali in epoca pre-strumentale, ovvero nelle epoche in cui non c'erano strumenti scientifici come da 1850 in poi, o comunque l'umanità era impegnata in altro e non si metteva a raccogliere dati sul clima globale. Quindi come facciamo a sapere oggi le variazioni climatiche che ci sono state nel passato? Qui abbiamo il grande progetto di perforazione in Antartide, chiamata DOMSEE, iniziata nel 1996. Ha prodotto molti dati, oltre mille carote di ghiaccio da tre metri ciascuna. Da queste carote di ghiaccio hanno estratto le bolle d'aria al loro interno, che sono di fatto piccoli campioni di atmosfera del passato, e si poteva risalire da queste bolle d'aria alla concentrazione di gas serra in atmosfera, fino a un massimo di 800 mila anni fa. E questo è il grafico che è stato ottenuto. Questi sono dati indiretti, ovvero dalla concentrazione di gas serra ottenute dalle bollicine d'aria ricavate da queste carote di ghiaccio, è stato possibile risalire alla temperatura globale del pianeta. E, analizzando questi dati, sono stati contati almeno 9 ere glaciali correlate alla concentrazione di CO2 in atmosfera. Parliamo di dati dell'emisfero sud. Questo è lo studio più dettagliato mai fatto fino adesso, ma ci sono tanti altri dati che sono stati ricavati da altre fonti, come isotopi radioattivi da sedimenti lacustri e da coralli, ma anche dall'accrescimento degli alberi. E anche grazie a questi dati sono stati ottenuti addirittura i periodi di attività solari, quando sono più intensi e meno intensi. Ma andiamo con ordine. Grazie a questi dati noi sappiamo cosa è successo nell'ultimo milione di anni, o quasi, e in particolare negli ultimi 200.000 anni. Questo è un ingrandimento degli ultimi 100.000 anni in particolare. Cosa è successo? Infatti la specie umana esiste da 200.000 anni. Noi siamo comparsi qui, in questo periodo qua, e corrisponde all'inizio di un raffreddamento globale, che poi si tradurrà in una epoca glaciale poco dopo la nostra comparsa. Dopo di questo è stato registrato un riscaldamento, i riscaldamenti vengono chiamati periodi interglaciali, molto rapido e breve, e poi di nuovo un lungo periodo freddo, un'altra era glaciale. Infatti la nostra specie si è evoluta durante una lunga era glaciale. Proviamo a ingrandire l'ultima parte del grafico, corrispondente agli ultimi 100.000 anni. Abbiamo un clima medio globale più freddo dell'attuale, con molte variazioni climatiche interne, però la nostra specie ha vissuto per molto tempo della sua esistenza durante un'era glaciale. E durante queste ere glaciali il livello del mare si abbassava notevolmente anche di 150 metri, permettendo alla nostra specie di diffondersi per il pianeta. Infatti ogni volta che il mare si abbassava, comparivano molti passaggi che permettevano alle popolazioni umane di attraversare brevi bracci di mare. La prima migrazione fuori dall'Africa avvenne poco prima di 90.000 anni fa. Poco dopo i 60.000 anni fa abbiamo avuto l'arrivo dell'uomo in Australia, tra i 50.000 e i 30.000 anni è stata colonizzata anche l'Europa e il sud-est asiatico, e infine poco prima di 20.000 anni fa abbiamo avuto la colonizzazione umana anche dei continenti americani, Nord e Sud America. Probabilmente questi sono passati tramite quello che oggi è lo stretto di Bering, ma che all'epoca durante l'abbassamento di livello marino a causa dell'era glaciale doveva essere uno stretto di terra facile da attraversare a piedi. Quindi vedete che l'ultima era glaciale è stato un evento favorevole che ha permesso alla nostra specie di diffondersi per il globo e che nello stesso tempo ha anche indebolito i possibili predatori. Quindi la nostra specie è una di quelle che ha avuto un vantaggio dalle aree glaciali perché dopo almeno 100.000 anni di isolamento africano ci ha permesso di uscire dal continente e diffondersi su tutto il globo. Durante l'ultima era glaciale la terra aveva una temperatura media molto più bassa anche di 20 gradi centigradi e la temperatura globale variava rapidamente anche di 10 gradi ogni 10 anni quindi c'era un clima molto variabile e instabile che di fatto non permetteva l'esistenza di stanziamenti stabili e soprattutto non permetteva l'agricoltura. Anche perché con variazioni così grandi le calotte di ghiaccio non erano stabili, le linee di costa variavano continuamente e nell'archio di una generazione quella che poteva essere una pianura alluvionale fertile diventava un fondale marino poco profondo quindi era anche difficile o se non impossibile creare stanziamenti umani stabili lungo le coste e lungo i fiumi perché questi cambiavano rapidamente e in modo molto invasivo nell'arco di pochi decenni. Il nomadismo era quindi il modo con cui l'umanità si adattava a variazioni climatiche e ambientali così estreme per questo non ci sono stati insediamenti stabili e quindi città durante lungo questa lunga fase glaciale. Poi è successo qualcosa circa 11-12 mila anni fa finisce l'ultima era glaciale e per 10 mila anni il clima è stato incredibilmente stabile questo è l'olocene infatti il clima in tutto questo periodo varia solamente di un grado è una stabilità incredibile tanto che ha permesso a molti gruppi umani diffusi sul pianeta di stabilizzarsi e di fatto inventare l'agricoltura con l'invenzione dell'agricoltura pochi esseri umani producevano il cibo per tutti e tanti altri esseri umani potevano dedicarsi ad attività dall'economia alla politica all'architettura quindi la civiltà nasce con insediamenti stanziali infatti civiltà sta per città edificazione di città perché il clima così stabile permetteva lo sviluppo di un'agricoltura e di allevamenti e questo è stato fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà quindi noi esseri umani siamo compassi sulla terra 200 mila anni fa per oltre 190 mila anni gli esseri umani sono stati una specie come tutte le altre che vivevano alla giornata sopravvivendo giorno per giorno e si sono diffusi in piccoli gruppi in tutto il pianeta e poi intorno a 10 mila anni fa un clima incredibilmente stabile e favorevole ha permesso l'invenzione dell'agricoltura e lo sviluppo della civiltà e in questo breve periodo abbiamo l'inizio dell'agricoltura gli assiri, gli egizi, le grandi civiltà classiche europee, greca e romana e poi medioevo ed epoca moderna tutto quanto negli ultimi 10 mila anni quindi com'era il mondo nell'olocene com'era il mondo che ha permesso agli esseri umani di crescere e svilupparsi così rapidamente dopo 190 mila anni di nomadismo e di sopravvivenza alla giornata era un mondo con due calotte di ghiaccio perenni e stabili numerosi fiumi e grandi foreste che erano delle risorse ottime per poter pescare, cacciare e sviluppare l'agricoltura poi un clima e livello dei mari stabili che permettevano di poter edificare città sulle coste senza che queste cambiassero geografia in continuazione nell'arco di pochi decenni e ovviamente un clima stabile era fondamentale per poter avere un grande sviluppo agricolo per molti decenni se non addirittura come nel caso dell'impero romano per molti secoli e poi infine una grande biodiversità e ogni continente aveva grandi animali come cavalli, elefanti, tigri ma anche i popotami, i grandi uccelli i grandi animali sono stati fondamentali per lo sviluppo delle civiltà tant'è vero che la superiorità delle civiltà euroasiatiche rispetto a quelle dell'America precolombiana spesso è dovuta alla presenza del cavallo che era un animale fondamentale in guerra e nella colonizzazione senza parlare poi di tutti i grandi bovini che in Europa e in Asia hanno permesso la produzione di cibo anche in climi rigidi e difficili l'agricoltura perché produrre carne e latte in ambienti dove un clima rigido non permetteva un grande sviluppo dell'agricoltura è stato comunque un elemento fondamentale che ha permesso a molte popolazioni di colonizzare le regioni più settentrionali del continente europeo ed asiatico e tutto questo infatti durante l'Olocene si è tradotto nello sviluppo di queste aree dove spontaneamente sono nate delle civiltà nella Mesoamerica, nell'Egitto e nella Mesopotamia nella Valle dell'Indo e nella Valle del Fiume Giallo quindi queste civiltà sono compasse spontaneamente quando il clima ha reso sostenibile possibile l'agricoltura da notare la Mesopotamia che all'epoca era un ambiente molto fertile oggi è un deserto il clima di oggi è già diverso a quello che c'era migliaia di anni fa e questo ha fatto la differenza perché una regione che è stata culla di una civiltà oggi è una regione desertica che sopravvive grazie all'apporto di risorse da altre regioni del mondo poi tutto questo finisce e secondo gli scienziati finisce durante il XX secolo anche se in realtà probabilmente il suo declino è cominciato molto prima ed è l'antropocene che cos'è l'antropocene? è quell'era geologica praticamente un'era geologica tutta nostra dove le attività umane diventano una forzante geologica e climatica al pari delle altre cioè quindi al pari delle attività vulcaniche al pari del rileggiamento solare al pari della circolazione oceanica eccetera eccetera perché? perché metà delle terre arabili vengono adibiti all'agricoltura e all'allevamento quindi abbiamo già perso metà delle foreste che erano presenti all'inizio dell'olocene poi spostiamo più roccia e sedimenti di quanto facciano i processi naturali del pianeta calcolate che solamente in dieci anni a Dubai sono state costruite delle isole artificiali per costruirci sopra delle ville ma in tutto il mondo costruire città e deviare fiumi costruire dighe e cavare montagne causa un'erosione molto più intensa e accelerata di quello che i normali processi naturali fanno quindi creiamo noi più sedimenti di quanto non facciano i processi erosivi naturali poi la pesca oggi la pesca è praticata in metà degli oceani e il 90% dei banchi di pesce sono al collasso il 90% dell'umanità respira aria inquinata e questo molto importante in meno di un secolo l'umanità ha riscaldato il pianeta di otto un grado calcolate che in tutto l'olocene la temperatura globale del pianeta è variata a malapena di un grado noi siamo riusciti a riscaldare il pianeta di un altro grado negli ultimi 100 anni quindi abbiamo avuto un impatto enorme sul clima del pianeta già adesso per questo viene chiamata epoca antropocenica perché siamo noi la forza non più naturale ma artificiale che è diventata una vera e propria forzante dei cambiamenti climatici e quindi anche geologici del pianeta infatti in soli 50 anni l'umanità ha spinto il pianeta fuori da uno stato di stabilità climatica che persisteva da almeno alcune variazioni naturali precedenti alla nascita di Cristo e poi ancora è più evidente che mai che le attività umane rischiano di destabilizzare le condizioni che hanno reso il pianeta favorevole alla vita umana negli ultimi 10.000 anni quindi stiamo spostando il pianeta verso un equilibrio climatico molto diverso da quello a cui ci siamo sviluppati negli ultimi 10.000 anni da qui possiamo parlare del famoso grafico bastone da hockey infatti la ricostruzione delle temperature negli ultimi 10.000 anni nell'emisfero settentrionale ha rivelato una crescita esponenziale delle temperature globali dopo millenni di stabilità e qual è questa grande variazione che stiamo facendo? ce lo dice il famoso grafico bastone da hockey la ricostruzione delle temperature negli ultimi mille anni nell'emisfero settentrionale ha rilevato una crescita esponenziale delle temperature globali dopo millenni di stabilità questo è il famoso grafico mazza da hockey perché ha proprio la forma di una mazza da hockey infatti per praticamente gli ultimi 2.000 anni la temperatura media del pianeta non è cambiata di tanto ci sono state variazioni ma siamo sempre stati sotto un determinato valore poi a un certo punto da 1850 a poi c'è stato una vera e propria impennata nel riscaldamento globale le temperature aumentano fino a raggiungere un aumento di 0,6 gradi entro l'anno 2000 quindi c'è stato questo grande aumento che dà al grafico una forma simile a quella di una mazza da hockey e infatti questo grafico mostra un rapido riscaldamento negli ultimi 100 anni più di 1,1 gradi dal 1800 ad oggi da alcuni decenni in particolare si registrano record termici sempre più frequenti è proprio negli ultimi anni che ogni anno abbiamo l'estate sempre più calda perché la terra si sta riscaldando e ogni anno vengono superati i record termici dell'anno precedente perché stiamo vivendo un riscaldamento ci sono negazionisti climatici e comunque politici in mala fede che vedono in questo un allarmismo inutile di una certa stampa che per vendere giornali si inventano che ogni estate vengono registrati record termici più caldi di quel precedente loro raccontano questo fenomeno come un modo per vendere più giornali e per fare allarmismo ma in realtà è vero è un vero allarmismo perché il riscaldamento del pianeta fa sì che ogni anno le temperature medie globali vanno a infrangere i record registrati nell'anno precedente vivendo un riscaldamento globale stiamo vivendo estati sempre più calde gli ultimi sette anni sono stati i sette anni più caldi di sempre mai registrati e io sto registrando questo video tra settembre e ottobre del 2023 e è appena uscita la notizia che il settembre del 2023 è stato il settembre più caldo mai registrato sulla terra e se continua così fino a dicembre il 2023 sarà l'anno più caldo mai registrato sulla terra il riscaldamento fa sì che ogni anno superiamo sempre nuovi record e questo comincia ad avere effetti che tutti quanti stiamo già pagando poi questo grafico ha suscitato un grande dibattito tra scienziati e politici proprio perché visto che il problema è anche politico e c'è molta politica che ha tutto interesse a negare questo problema visto che tende a tutelare gli interessi delle economie che vivono grazie ai combustibili fossili cercano in tutti i modi di screditare gli scienziati le ricerche scientifiche e soprattutto gli allarmismi che vengono dati tant'è vero che molti politici ancora oggi negano l'esistenza di questo riscaldamento o addirittura cercano di convincere l'opinione pubblica che è un processo naturale e non causato dalle attività umane ma come vedremo in questa lezione le attività umane ci entrano e come siamo noi che negli ultimi anni stiamo immettendo in atmosfera enormi quantità di gas serra tanto da alterare l'effetto serra globale dalle ultime analisi tutta l'accio 2 emessa dalle attività umane in un anno è 120 volte maggiore di quella che emettono tutti i vulcani del pianeta quindi le attività umane sono diventate una fonte di gas serra 120 volte più potente di quella naturale dei vulcani e questo ovviamente non può non avere un effetto sull'equilibrio climatico globale qui vediamo un altro grafico che mostra meglio questo dato si vede proprio un inarcamento della temperatura da 1800 ad oggi e proprio negli ultimi decenni guarda caso quelli coincidenti con lo sviluppo economico dopo la seconda guerra mondiale dove la temperatura aumenta fino ad arrivare a più 1,1 gradi di oggi gli anni più caldi del millennio si registrano tutti negli ultimi decenni e ogni nuovo anno si registrano record sempre maggiori è quello che ho detto prima i negazionisti tendono a negare questa evidenza e tendono a ridicolizzare gli scienziati e gli studi scientifici che continuano a ricordare all'opinione pubblica e alla politica globale che stiamo affrontando una vera e propria crisi perché lo fanno? perché quelle politiche e quelle amministrazioni che non riescono ad affrontare o ad avere una facile soluzione a questo problema tendono a ignorarlo nella speranza che poi non tocca a loro dove l'affrontare ma più tempo si passa ad ignorare il problema più saranno i danni che dobbiamo affrontare in futuro e più sarà costoso riconvertire l'economia globale a un'economia a carbone zero ovvero continuare a sviluppare la nostra civiltà senza consumare petrolio e carbone e come vedremo parte del mondo si sta già muovendo per la riconversione energetica verde ma non è così facile visto che ci sono enormi concentrazioni economiche e poteri economici che cercano di mantenere i loro privilegi e continuare a negare l'evidenza di questo problema questa è la curva dei dati diretti ottenuti dalle registrazioni strumentali osservandola è preoccupante vedere come la temperatura sale in tempo e come questa si impenna negli ultimi decenni però gli scienziati hanno scoperto che una parte di questo riscaldamento non è tutto quanto attribuibile alle attività umane infatti su questa notizia molto spesso i negazionisti climatici ci marciano è vero che c'è una componente non artificiale di questo riscaldamento e adesso la vedremo e vedremo quali sono i fattori naturali che influenzano il clima terrestre ma è altrettanto vero che l'impennata negli ultimi decenni non dipende da attività naturali ma coincide esattamente con l'aumento dei gas a serra che l'umanità sta immettendo in atmosfera ed è in particolare questa parte rossa ma è negli ultimi vent'anni che qualcosa di molto preoccupante sta succedendo il riscaldamento globale sta accelerando in misura molto maggiore delle previsioni che venivano fatte fino agli anni 90 e la forzante umana ovvero le attività umane sembrano essere diventate la forzante dominante che sta guidando questo riscaldamento sempre più veloce è per questo che nonostante ci siano ancora molte resistenze e molti negazionisti anche ad alte sfere politiche comunque i governi internazionali stanno affrontando la cosa sempre più seriamente perché la grande crescita economica di gran parte del mondo nell'ultimo ventennio ha veramente cambiato tutte le carte in tavola e ha praticamente reso inutili tutte le previsioni che gli scienziati hanno fatto prima del 2000 prima che appunto la globalizzazione diventasse il fenomeno che abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni quali sono le cause naturali delle variazioni termiche del pianeta il clima è un geosistema complesso controllato da molte variabili interagenti fra loro in modo dinamico non si può osservare solamente una di queste caratteristiche e studiarla separatamente il loro effetto è cumulativo e complessivo quindi va considerato l'intero sistema e come questi fattori interagiscono questi fattori si chiamano forzanti quindi c'è la forzante vulcanica c'è la forzante solare c'è la forzante delle correnti oceaniche delle foreste dei deserti e da almeno un secolo c'è la forzante umanità che sta diventando sempre più pesante solamente negli ultimi 50 anni la sua influenza sul sistema è praticamente triplicata vediamo quali sono le forzanti naturali più importanti che hanno un'influenza sulle temperature globali c'è il ciclo solare il sole non dà sempre la stessa radiazione ma negli anni può variare abbiamo un ciclo in cui l'attività solare aumenta e diminuisce in 11 anni e si completa nell'arco di 22 anni perché si invertono i polimagnetici ogni 11 anni abbiamo un valore massimo un picco e una valle un valore minimo di radiazioni e questo si ripete ogni 11 anni seguendo un ciclo di 22 anni e molto raramente ogni 200 anni l'attività solare registra un minimo molto estremo poi abbiamo l'attività vulcanica i vulcani immettono in atmosfera non solamente gas serra ma anche goccioline di acido solforico polvere e cenere che riflettono nello spazio gran parte della radiazione solare e una singola eruzione vulcanica può raffreddare l'intero pianeta anche per alcuni anni e poi i moti millenari oltre alla rotazione e alla rivoluzione intorno al sole la terra ha almeno altri tre moti che però si completano nell'arco di millenni che fanno la differenza tra un'era glaciale e un'era interglaciale durante lo svolgimento di questi moti le regioni polari possono addirittura subire una variazione di radiazioni del 20% ed è sufficiente a innescare o a terminare un'era glaciale ora vediamoli uno per uno e cominciamo dal ciclo solare nel giro di poco più di un decennio il sole passa da un periodo di attività minima ad uno di massimo dinamismo visibile dal numero ridotto di macchie e brillamenti sulla sua superficie questo è un grafico che mostra il ciclo dell'attività solare registrata grazie a vari dati alcuni sono dendrologici quindi dagli anelli di crescita degli alberi altri sono osservazioni dirette strumentali vediamo che c'è questo ciclo di attività solare e che ogni 11 anni vede un aumento e una diminuzione della sua attività e questo è stato provato a delle influenze sul riscaldamento globale c'è stato un raffreddamento tra il 1800 e il 1820 e c'è stata anche una mini era glaciale nel medioevo probabilmente dovuto a questa attività ultimamente l'attività solare si sta rallentando nuovamente dopo un aumento nella seconda metà del XX secolo però vedremo che a questa attività che sta calando non corrisponde oggi un raffreddamento globale e la causa potrebbe essere di natura antropica cioè umana a cicli alterni ogni picco solare ha il campo magnetico con la polarità invertita quindi il ciclo effettivo solare si completa in 22 anni non 11 infatti prima ho detto che abbiamo un ciclo di aumento e minimo solare ogni 11 anni però ogni 11 anni il campo magnetico si inverte quindi il sole torna al punto di partenza col campo magnetico nella posizione iniziale dopo 22 anni e qui vediamo come appare il sole durante un picco massimo di attività solare e un momento di minimo solare nel momento di picco massimo di massimo solare abbiamo molte macchie solari sulla sua superficie le macchie solari sono il risultato dell'interazione tra intensi campi magnetici e la fotosfera infatti i campi magnetici possono essere talmente potenti da creare dei buchi nella fotosfera queste macchie solari sono di fatto dei buchi nella fotosfera che mostrano strati più freddi sottostante gli strati più freddi appaiono ai fit di telescopio meno luminosi ma in realtà sono comunque molto luminosi e che la loro luminosità messa in confronto con quella della fotosfera li fa sembrare scuri ma in realtà hanno anche loro una loro luminosità questa è un'immagine fatta col filtro che per poterlo osservare ha bisogno di essere ridotta in luminosità quindi di fatto questa macchia è una zona del sole meno luminosa di tutto il resto sono molte durante un massimo solare sono di meno o a volte addirittura nulle durante un minimo solare e qui vediamo un grafico che mostra questo dal 1975 al 2005 abbiamo avuto questi tre picchi solari e due minimi qui vediamo in giallo l'irradiazione giornaliera e in rosso quella annuale vedete che durante i momenti di picco l'irradiazione è maggiore è minore invece durante il minimo e a questo è stata correlata una variazione della temperatura globale il mondo si scalda durante i massimi solari e si raffredda durante i minimi solari a volte il sole ha dei minimi solari che durano molto di più e sono stati registrati in passato momenti freddi durati anche alcuni decenni proprio per questo motivo ma osservando i dati anche di secoli passati è stato possibile osservare una diminuzione proprio tra il 1600 e il 1750 questo viene chiamato piccola era glaciale o minimo di Mauder perché fu scoperto da questo signore che si chiamava Mauder poi ci sono stati altri minimi come quello del 1800 visto nella slide precedente chiamato minimo di Dalton e il massimo moderno infatti nel XX secolo l'attività solare ha aumentato la sua intensità e questo in parte spiega il riscaldamento che abbiamo visto nel XX secolo infatti la componente naturale del riscaldamento globale osservato nel XX secolo potrebbe essere in parte attribuito all'aumento dell'attività solare che però adesso sta finendo e quindi teoricamente ci dovremmo aspettare un raffreddamento che in realtà non stiamo osservando però sicuramente una parte dell'attività solare è responsabile del riscaldamento globale osservato nel XX secolo è qui che spesso i negazionisti si attaccano per poter poi argomentare le loro tesi antiscientifiche e negazioniste sulla responsabilità umana del riscaldamento climatico osservato è che spesso ci credono davvero altre volte sono in mala fede e cercano di portare acqua al loro murino ignorando altri dati ma solo quelli che gli fanno comodo questi minimi e questi massimi avvengono in epoca storica e spesso non solo solamente documentati da dati indiretti come quelli isotopici e adesso vi spiegherò come ma spesso anche da documentazioni storiche e sono molti i dipinti e i quadri di questa epoca che ritraggono fiere svolte su fiumi congelati o gente che passeggia su fiumi congelati o paesaggi invernali con le navi intrappolate nei fiumi congelati proprio perché fu un periodo con inverni molto freddi e a parte un altro minimo nel 1800 dopo un'attività solare molto attiva nel XX secolo dal 2000 in poi stiamo osservando l'inizio di un nuovo minimo solare cioè stiamo andando verso un'attività sempre minore del sole probabilmente a breve ci troveremo ad affrontare un altro minimo solare e devo dire per fortuna perché adesso ci serve proprio visto che il mondo si sta scaldando troppo in fretta quindi questo minimo solare che ci stiamo aspettando potrebbe in qualche modo venirci incontro e farci sentire un po' meno il riscaldamento globale che stiamo causando ogni 200 anni le macchie solari sembrano scomparire completamente e sembra che adesso siamo vicini a uno di questi eventi quindi sembra che sta per cominciare un nuovo minimo solare molto lungo e questo oggi assolutamente ci serve visto che il mondo si sta scaldando troppo in fretta e come facciamo ad avere tutti questi dati di epoche in cui ancora non esistevano osservazioni astronomiche e strumenti che potessero misurare l'attività solare nello spazio così come abbiamo ottenuto da perforazioni in Antartide dati indiretti sulla concentrazione di gas a serra in Antartide negli ultimi 800.000 anni è stato possibile trovare dalla raccolta di campioni isotopici all'interno di coralli alberi e sedimenti lacustri in particolare sono molto importanti gli isotopi del carbonio 14 e del brillo 10 l'attività solare genera neutroni che interagendo con l'atmosfera terrestre produce isotopi radioattivi in particolare il carbonio 14 questo carbonio 14 viene assorbito dalla fotosintesi delle piante dagli animali e rimane nel corpo delle piante si può studiare la concentrazione degli isotopi del carbonio 14 negli anelli di crescimento degli alberi e si risale così all'attività solare di quel periodo un'attività solare molto intensa produce grandi quantità di carbonio 14 in atmosfera un'attività solare meno intensa ne produce di meno se l'attività solare cala la terra è meno esposta al vento solare ma è più esposta ai raggi cosmici allora i raggi cosmici quando colpiscono l'atmosfera terrestre generano l'isotopo del beriglio 10 che si può accumulare nei sedimenti lacustri oppure nei ghiacciai anche qui osservando l'accrescimento e la diminuzione della concentrazione di questo isotopo è possibile capire se la terra è meno o più esposta ai raggi cosmici e quando la terra è meno esposta ai raggi cosmici vuol dire che l'attività solare è più intensa perché il vento solare protegge la terra dai raggi cosmici quando invece l'attività solare diminuisce e il vento solare riduce la sua attività la terra è più esposta ai raggi cosmici che ad alta quota in atmosfera generano questo isotopo del beriglio 10 che poi si accumula nei sedimenti lacustri e nei ghiacciai tutti questi dati indiretti ci danno informazioni sull'attività solare del passato ed è stato possibile correlare questa attività solare con i dati delle temperature globali ottenute dal carotaggio della tartide e osservare le varie correlazioni tra questi picchi e questi minimi e la temperatura globale quindi quando aumenta il carbonio 14 negli anelli degli alberi abbiamo un aumento delle temperature quando aumenta il beriglio 10 nei sedimenti lacustri e graciali diminuisce la temperatura globale quindi abbiamo questi altri indicatori per poter comprendere il passato e che cosa è stato scoperto? qui vediamo una curva che mostra le temperature globali in rosso e una curva che mostra l'attività solare dal 1880 fino al 1960 più o meno abbiamo una buona correlazione tra l'attività solare e la temperatura globale quindi possiamo dire che la forzante naturale della reazione solare è dominante sulle temperature globali e anche il riscaldamento che abbiamo osservato nel XX secolo almeno in parte è dovuto a questa forzante naturale solare quindi possiamo dire che dagli studi dell'attività solare dal 1856 ad oggi sembra che le variazioni delle macchie solari quindi l'attività solare ottenuta anche tramite anche i dati isotopici visti prima e la temperatura globale hanno una grande correlazione quindi a quanto pare almeno all'inizio del XX secolo fino agli anni 60 la forzante naturale solare è la guida dominante sul riscaldamento del pianeta e questo più o meno fino al 2000 anche se già negli anni 60 comincia a esserci uno scollamento un gap tra questi due valori in questo periodo la temperatura globale aumenta di 0,6 gradi di centigradi questo possiamo dirlo abbastanza correlabile fino al 2000 poi dal 2000 in poi comincia il minimo solare che vi ho detto prima adesso l'attività solare sta diminuendo e si sta progressivamente spostando verso un minimo di lunga durata quello che avviene ogni 200 anni circa però come vedete le temperature non seguono più la forzante solare ma stanno continuando ad aumentare quindi ci deve essere un'altra forzante che adesso è diventata predominante che sta facendo riscaldare il mondo nonostante la radiazione solare stia diminuendo ecco quello che spesso i negazionisti non ci dicono ovvero che oggi l'aumento globale delle temperature non è più guidato dalla forzante solare ma da un'altra forzante e cos'è cambiato negli ultimi 20-30 anni così tanto nel mondo è cambiata l'attività umana solamente dagli anni 90 ad oggi abbiamo letteralmente triplicato le emissioni di gas serri in atmosfera perché perché oltre all'Europa e all'America si sono aggiunte la Cina l'India il Brasile e tante altre economie che emergendo stanno aumentando i loro consumi energetici e molto spesso i consumi energetici sono di origine fossile quindi questi paesi per svilupparsi per crescere per creare economie stanno aumentando il consumo di petrolio e carbone e nello stesso tempo aumentano la deforestazione per produrre cibo perché per aumentare l'agricoltura e produrre carne bisogna purtroppo distruggere foreste e questo è quello che sta succedendo ed è questo quello che spesso i negazionisti non ci raccontano e spesso chi nega il cambiamento climatico o comunque vuole attribuire a fattori naturali il cambiamento climatico ci fa vedere solamente il primo dato e non il secondo e solamente in questi 20 anni la temperatura globale è aumentata di 0.4 gradi centigradi quindi molto più rapidamente e più velocemente della forzante naturale solare che c'è stata nel ventesimo secolo è qui che dobbiamo preoccuparci perché da alcuni decenni le attività umane la forzante umana sta diventando più forte e più intensa delle altre forzante naturali come abbiamo già detto il ciclo solare non è l'unica forzante naturale da cui dipendono le variazioni delle temperature globali abbiamo anche l'attività vulcanica che su breve termine può raffreddare il pianeta infatti un'eruzione vulcanica molto potente può emettere talmente tanta cenere e tanto acido solforico da riflettere una buona parte della luce solare che intercetta la terra l'effetto complessivo è raffreddante una grande eruzione vulcanica può raffreddare il pianeta per diversi anni l'attività vulcanica del pianeta ha sempre avuto un importante ruolo climatico su lunghi periodi immette grandi quantità di gas serra che hanno fatto uscire più volte la terra da imponenti aree glaciali ma su breve periodo può immettere enormi quantità di gas e di polvere che vanno a coprire il sole per diverso tempo anche diversi anni tanto da poter raffreddare il pianeta l'eruzione vulcanica esplosiva in particolare immettono in atmosfera grande quantità di cenere e acidi sofforici definiti con il termine airsol perché sono polveri e goccioline di acido sospese nell'aria queste hanno un ruolo molto importante nel raffreddamento globale perché riflettono nello spazio gran parte della luce solare che altrimenti sarebbe arrivata al suolo qui vediamo l'effetto dell'eruzione del vulcano pinnatubo nelle Filippine nel 1991 in questa immagine che rappresenta la polvere diffusa nel mondo in diversi momenti dell'anno aprile 91 giugno 91 agosto 91 dicembre 93 e gennaio 94 mostrano come l'eruzione vulcanica abbia messo così tanta polvere da avvolgere il mondo poi c'è da dire che il monte pinnatubo si trova all'equatore quindi l'eruzione vulcanica ha interessato i due emisferi in equal modo e ha avvolto con la sua nube la terra lungo la fascia equatoriale dove c'è il massimo raggiamento negli anni successivi al 1991 quindi nel 1992 nel 93 e nel 94 tutto il mondo ha registrato un calo delle temperature dovuto proprio alla riduzione dell'irraggiamento solare che ha raggiunto il suolo e quindi ha contribuito all'effetto serra globale questo vulcano ha immesso in atmosfera almeno 20 milioni di tonnellate di acido solforico questa sostanza sospesa in aria sotto forma di piccole coccioline ha un effetto molto raffreddante perché riflettono nello spazio grandi quantità di raggi solari ed è proprio a questa eruzione che è stato attribuito il calo globale delle temperature negli anni successivi si vede che questa nube di Arsol ha avvolto il pianeta per almeno due anni e che solamente a cavallo tra il 1993 e il 94 l'atmosfera si è ripulita da queste sostanze infatti poi col tempo ovviamente queste sostanze tramite le piogge e i venti riprecipitano a terra ci mettono molto tempo e mentre sono sospesi in atmosfera raffreddano il pianeta quindi l'attività vulcanica è una forzante globale sulle variazioni climatiche di breve periodo che può interagire con le misurazioni che abbiamo avuto in questo secolo infatti durante questo secolo ci sono stati degli episodi un po' freddi a seguito di grandi eruzioni vulcaniche non è l'unica ce ne sono state altre nel 1815 il vulcano Tambora in Indonesia erutta emettendo in atmosfera un'enorme quantità di materiale almeno 150 km3 di prodotti vulcanici che causarono nel 1816 il famoso anno senza estate dove le precipitazioni come pioggia e neve interessavano per tutto l'anno estate compresa intere regioni del nord Europa e del nord America c'è la famosa leggenda secondo cui Mary Sherry scrisse il romanzo Frankenstein durante quell'estate perché a causa delle grandi piogge lei e i suoi amici erano costretti a passare le giornate in casa a inventare storie horror per passare il tempo e da lì nacque l'idea con cui poi scrisse il romanzo di Frankenstein questa è una piccola parentesi però ovviamente questo fu un evento enorme globale che è avvenuto in un'epoca in cui gli scienziati cominciavano a misurare i parametri atmosferici ovviamente non ci sono prove videofotografiche di un'eruzione del 1815 ma gli studi successivi hanno dimostrato che è stato veramente un evento di grande portata che ha avuto un grande impatto e conseguenze globali per gli anni successivi in particolare come ho detto nel 1816 però anche in epoca recente oltre a Pinnatubo c'è stata un'altra grande eruzione quella del vulcano è il Cicon in Messico nel 1982 che ha immesso in atmosfera la metà del materiale emesso dal Pinnatubo circa 10 milioni di tonnellate di acido sulforico in particolare quest'ultimo vulcano sembra aver raffreddato la terra negli anni successivi di almeno 0,3 gradi centigradi mentre il Pinnatubo qualcosina di più le attività vulcaniche si possono confondere con le attività umane e quindi i negazionisti possono utilizzare le attività vulcaniche per poter dimostrare che le variazioni termiche globali possono avere una matrice naturale quindi sia il ciclo solare che le attività vulcaniche sono forzanti climatiche naturali paragonabili ai tempi umani ci sta che una parte delle variazioni climatiche di questo secolo siano influenzate da questi fattori naturali quindi almeno una parte di questo riscaldamento di più 0,6 gradi nel XX secolo probabilmente è dovuto a variazioni del ciclo solare ed è anche possibile che momenti più freddi quindi variazioni in negativo della temperatura siano dovute a eruzioni vulcaniche e possano aver interessato il mondo per diversi anni quindi ci sta che qualcuno magari non in mala fede quindi uno scettico dei cambiamenti climatici possa utilizzare questi fattori per poter giustificare le variazioni climatiche che abbiamo registrato però la terza forzante naturale che a volte i negazionisti utilizzano per spiegare i cambiamenti climatici non può avere questo ruolo nel XX secolo perché sono cicliche che si completano in migliaia di anni infatti la terra oltre alla rotazione e rivoluzione intorno al sole ha altri movimenti che però si completano nell'arco rispettivamente di 21.000 40.000 e 92.000 anni e le variazioni dell'orbita terrestre con i moti millenari non possono assolutamente essere la causa del riscaldamento che abbiamo visto negli ultimi 200 anni quali sono questi moti millenari a cui non è possibile attribuire il riscaldamento che stiamo osservando in questi decenni eccoli qua abbiamo il moto doppio conico che fa disegnare all'aste terrestre un cono nello spazio questi movimenti ondulatori chiamati mutazioni sono dovute all'interazione con la luna che infastidisce questo movimento con un'oscillazione che si completa ogni 18,6 anni tutta la rotazione doppio conica si completa in 21.000 anni il suo effetto è la precessione degli equinozi ovvero il fatto che durante gli anni i momenti di equinozio del pianeta si verificano in momenti diversi dell'orbita e questo ha un ruolo molto importante nell'attivazione di ere graciali quando gli equinozi e i sostizi coincidono con afelio o perielio in diversi momenti dell'ere geologiche perché dico questo? perché anche l'afelio e il perielio variano nel tempo il secondo moto millenario è la variazione dell'eccentricità dell'orbita terrestre che si completa in 92.000 anni l'interazione tra gli altri pianeti del sistema solare fa sì che la Terra ha un'orbita che cambia regolarmente e ciclicamente l'eccentricità in questo momento non è molto eccentrica ma ci sono momenti in cui è molto più eccentrica e questo fa la differenza se l'inverno o l'estate nell'emisfero nord capitano nel punto di perielio o afelio in questo momento geologico abbiamo che l'inverno nell'emisfero nord avviene nel punto di perielio in un momento in cui la Terra ha un'orbita poco eccentrica questo significa che durante l'inverno non fa molto freddo e le estati sono almeno una settimana più lunghe perché se l'estate capita in afelio secondo la legge di Keplero il pianeta rallenta la sua velocità di rivoluzione intorno al sole mentre passa in quella porzione dell'orbita allungando quindi anche la stagione in questa condizione di raggiamento gli inverni più caldi e più rapidi accumulano meno neve e le state un po' più lunghe permettono a questa di sciogliersi impedendo che ci sia un effetto accumulo anno dopo anno ed è quello infatti l'effetto accumulo che poi fa crescere le calotte glaciali e innesca il processo di glaciazione planetaria e quindi le aree glaciali e quindi il ghiaccio accumulato durante l'inverno non sopravvive all'estate questo è fondamentale per non avere aree glaciali ci arriveremo a breve poi abbiamo il terzo movimento millenario che è quello di oscillazione dell'inclinazione terrestre la luna tende a stabilizzare molto questo movimento se non ci fosse la luna l'asse terrestre oscillerebbe in modo molto maggiore Marte subisce un'oscillazione molto maggiore della nostra perché non ha un grosso satellite come noi che lo mantiene più stabile però comunque nell'arco di 40.000 anni l'inclinazione terrestre passa da quasi 22 gradi a quasi 24 gradi e mezzo questa variazione di inclinazione poi ovviamente ha delle influenze sull'irraggiamento solare nelle regioni polari infatti questi movimenti si combinano in modo diverso creando delle situazioni particolari e può capitare in certi momenti quando possiamo dirla in termini poco tecnico c'è la tempesta perfetta ovvero abbiamo le condizioni di minor irraggiamento solare nelle regioni polari possiamo misurare un irraggiamento che è addirittura del 20% inferiore questo irraggiamento del 20% inferiore creano le condizioni per l'inizio di ere glaciali quando è che abbiamo un'era glaciale? quando gli inverni sono più rigidi e lunghi e le stati sono più fresche e rapide e questo ovviamente dipende da come sono posizionati i sostizi e gli equinozi rispetto all'afelio e il perereo dell'orbita e alla sua eccentricità ovviamente combinata con l'inclinazione massimo-minima che può avere la Terra abbiamo che la neve accumulatasi durante l'inverno non riesce a sciogliersi durante l'estate quindi ogni anno c'è un effetto cumulativo della neve dell'anno precedente anno dopo anno si accumulano grandi strati di neve che coprono un'area sempre maggiore della superficie terrestre un fenomeno definito albedo che vedremo presto fa sì che le zone coperte di neve siano molto più riflettenti delle zone coperte da foreste e acqua e quindi man mano che col tempo aumentano le aree coperte di neve e ghiaccio aumenta la radiazione solare che viene riflessa nello spazio limitando l'effetto serra e di conseguenza avendo un effetto raffreddante del pianeta questo fenomeno albedo lo vedremo a breve e proprio queste oscillazioni millenarie causano ere graciali che hanno appunto durate millenarie da almeno due milioni di anni la terra entra ed esce da ere graciali abbiamo ere graciali che si ripetono continuazione alternate da ere più calde definite intergraciali in questo momento noi ci troviamo in un'era intergraciale e l'ultima era graciale quella del Wurm è finita circa 11.000 anni fa e l'attuale era intergraciale in cui ci troviamo dovrebbe durare ancora per altri 50.000 anni quando poi le condizioni di eccentricità dell'orbita terrestre inclinazione dell'asse e posizione degli equinozi e dei sostizi lungo la nostra orbita torneranno nelle condizioni favorevoli per una nuova era glaciale quindi per ovvi motivi a questi moti milenari non può essere assolutamente attribuita l'attuale riscaldamento globale che stiamo registrando da almeno due secoli rivediamo i concetti appena esposti con questa mappa concettuale i cambiamenti della temperatura terrestre sono dovuti a cause antropiche che consistono nell'aumento della concentrazione di gas terra in atmosfera ma anche a deforestazione e distruzione di ecosistemi a cause naturali attività solare eruzioni vulcaniche e moti millenari della terra vi ricordo che le prime due possono confondersi con il riscaldamento antropico perché avvengono in tempi brevi l'attività solare in un ciclo di 11 anni le eruzioni vulcaniche possono avvenire in qualsiasi momento e raffreddare il pianeta per almeno qualche anno mentre i moti millenari hanno influenze che si sviluppano in millenni quindi non possono essere responsabili del riscaldamento globale che stiamo registrando da almeno 200 anni però su lunghi periodi quindi millenni e milioni di anni causano le ere glaciali e integraciali che hanno caratterizzato il clima negli ultimi 2 milioni di anni poi come facciamo a conoscere tutte queste informazioni queste informazioni sono desunte da dati diretti e indiretti i dati diretti sono le misurazioni strumentali che esistono da almeno 200 anni e indiretti ottenuti dai sedimenti marini dai campioni di bollicine d'aria contenute nelle carote di ghiaccio in antartida in groenlandia e da concentrazioni isotopiche di carbonio 14 negli alberi e beriglio 10 nei coralli nei ghiacciai e nei sedimenti lacustri cosa ci dicono tutti questi dati che da almeno 150 anni la terra sta subendo un riscaldamento globale sempre più veloce e che negli ultimi 800 mila anni ci sono state numerose oscillazioni almeno 9 eventi di aere glaciale fino a 800 mila anni fa quindi l'attuale ricerca sui climatici e sulle variazioni climatiche può essere sintetizzata in questo semplice schema andiamo avanti e vediamo un altro fattore importante che regola il clima del pianeta tutti gli elementi visti precedentemente la radiazione solare l'attività vulcanica le attività umane le correnti oceaniche le foreste i deserti la riflessione della luce nello spazio da parte dell'atmosfera non sono elementi che lavorano da soli ma interagiscono tra loro a volte amplificandosi a volte smorzandosi quando più fenomeni interagiscono creando delle interazioni secondarie o terziarie parliamo di processi di retroazione che possono essere positivi se questi si amplificano o negativi se invece si smorzano facciamo un esempio abbiamo visto sempre in questa lezione come cominciano le aree glaciali quando un'area sempre maggiore di superficie terrestre è coperta da neve e da ghiaccio questa riflette la luce nello spazio limitando la capacità della terra di assorbire calore e quindi anche l'effetto serra un'area terrestre che col tempo aumenta la sua copertura in neve in ghiaccio contribuisce a raffreddare il pianeta le aree glaciali hanno un fenomeno di retroazione positiva perché come abbiamo visto quando le condizioni orbitali raggiungono la combo perfetta per cui le regioni polari ricevono un 20% in meno della radiazione solare ogni anno si accumula sempre più neve le brevi e fresche stati non riescono a sciogliere tutta la neve che si sono accumulate negli inverni rigidi precedenti e questo genera un effetto cumulativo ogni anno sempre più superficie terrestre coperta di ghiaccio e una sempre maggiore porzione della superficie terrestre riflette luce e calore nello spazio creando un fenomeno che si autoalimenta raffreddandosi questo è un fenomeno di retroazione positiva le aree glaciali tendono ad autoalimentarsi è per questo che da questo grafico possiamo osservare che cominciano molto rapidamente con queste curve molto verticali e poi finiscono molto lentamente con queste curve molto più oblique e meno verticali è molto facile per la terra entrare in un'area glaciale perché con l'espansione delle aree glaciali si autoalimenta è molto difficile poi uscirne fuori perché lo scioglimento glaciale è lento e il riscaldamento degli emisferi è altrettanto lento poi anche qui abbiamo un effetto di retorazione positiva secondario abbiamo già detto che il vapore acqueo è un potente gas serra un'atmosfera più calda tende a aumentare la quantità di vapore acqueo che questa può assorbire quindi aumenta la capacità che ha l'atmosfera di trattenere il calore al contrario un'atmosfera più fredda diminuisce la capacità di assorbire vapore acqueo e quindi anche il suo effetto serra allora anche qui nei periodi caldi quando la copertura glaciale è minima abbiamo una minore superficie riflettente e quindi una maggiore evaporazione di acqua dagli oceani e di conseguenza un'atmosfera più calda nei periodi freddi in cui la copertura glaciale è maggiore come in questa ricostruzione della terra vista dallo spazio durante un'era glaciale abbiamo una maggiore riflessione di luce nello spazio un minor effetto riscaldante dell'atmosfera e di conseguenza anche una minore evaporazione di acqua degli oceani e quindi come retroazione di secondo livello un minore effetto serra in atmosfera vedete quanti sono gli elementi che interagiscono tra loro per poi mettere in sinergia i loro effetti per creare poi delle conseguenze che si autoalimentano per questo a volte spesso le aree glaciali e interglaciali sono periodi molto stabili perché per poter uscire dalla loro condizione climatica bisogna che diversi sistemi geofisici interagiscono in modo particolare creando delle combo particolari e quindi rompendo l'equilibrio climatico che si stabilizzano per millenni quindi maggiori sono le interazioni che concorrono a mantenere una stabilità climatica che può essere glaciale o interglaciale maggiore sono le difficoltà con cui questa stabilità climatica viene perturbata per esempio l'attuale cambiamento climatico innescato dall'attività umane sta mettendo a dura prova tutti i sistemi geofisici terrestri che per millenni hanno mantenuto stabile il clima dell'Olocene e questo fa capire quant'è importante l'influenza che l'umanità ha sul sistema terrestre e infatti uno dei processi di interazione tra le geosfere terrestri che l'umanità sta cominciando ad attivare è proprio quello di Albedo a differenza di quello che è successo durante l'ultima era graciale oggi vediamo una diminuzione delle terre coperte di ghiaccio e quindi una diminuzione della superficie terrestre che riflette maggiormente la radiazione solare lo scioglimento delle calotte di ghiaccio con l'attuale riscaldamento globale sta riducendo la superficie terrestre ghiacciata quindi sta diminuendo oggi la porzione di superficie terrestre che negli ultimi millenni rifletteva il calore nello spazio a questa superficie bianca viene sostituita una superficie verde scura delle foreste e blu scura degli oceani una superficie di questo colore assorbe molto più calore quindi l'attuale scioglimento degli acciai che stiamo sperimentando nella nostra epoca sta creando un fenomeno di retorazione positiva che sta accelerando il riscaldamento globale se osserviamo la superficie terrestre la terra è il pianeta roccioso del sistema solare con la più grande varietà cromatica superficiale abbiamo oceani scuri foreste scure deserti chiari nuvole bianche ghiacciai molto chiari la combinazione riflettente di tutta la superficie terrestre crea un certo bilancio energetico se enormi porzioni della superficie terrestre cambiano colore perché cambia l'ambiente che ospitano come già citati scioglimenti glaciali o delle grotte di ghiaccio ecco che cambia in bilancio energetico che la terra riflette nello spazio è tantissimo l'effetto si calcola che se l'albedo della terra variasse dell'1% quindi se la terra assorbisse solamente l'1% in più dell'irraggiamento solare che riceve ogni giorno il pianeta si riscaderebbe di un grado c'è da dire che ci vuole tanto affinché l'albedo terrestre cambi dell'1% però con lo scioglimento degli acciai e la deforestazione ci stiamo avvicinando e qui vediamo quali sono i contributi della superficie terrestre a questo fenomeno per esempio gli oceani hanno un colore blu scuro quindi gli oceani assorbono molto il raggiamento solare quindi hanno un basso albedo lo scioglimento dei ghiacciai artici antartici stanno esponendo altre aree oceaniche blu scure al posto di quelle bianche che c'erano prima e quindi sta aumentando la superficie blu scura dell'oceano che assorbe il raggiamento solare poi abbiamo le zone chiare dei deserti i deserti espongono rocce granitiche al sole senza vegetazione queste rocce con tutto quel quarzo tendono ad avere un colore chiaro e quindi i deserti paradossalmente contrariamente a quanto uno possa immaginare riflettono più luce nello spazio e quindi di fatto hanno un effetto rinfrescante del pianeta un'altra zona con un albedo molto alto sono come già citato gli acciai l'antartide da solo rappresenta il 10% della superficie terrestre anche se è esposto al sole solo 6 mesi l'anno ma anche i ghiacciai sui continenti e la calotta glaciale artica con la Gurellandia riflettono nello spazio gran parte della luce solare il loro scioglimento sta esponendo crosta più scura o oceani più scuri all'assorbimento solare poi abbiamo le foreste le foreste hanno prevalentemente un colore verde scuro quindi le foreste paradossalmente hanno un effetto riscaldante perché hanno un basso albedo quindi riflettono poca luce nello spazio e contribuiscono a riscaldare il pianeta un pianeta più ricco di foreste è un pianeta che assorbe più calore paradossalmente ci sono zone del mondo dove sta avanzando la desertificazione ma ci sono zone del mondo dove invece stanno avanzando le foreste spesso al posto di ghiacciai e questo ovviamente sta modificando il bilancio energetico del pianeta a volte anche la riforestazione di aree desertiche in modo controintuitivo può avere un effetto deleterio per i cambiamenti climatici perché vanno a convertire un'area che prima era adatto albedo quindi più chiara che rifletteva luce e calore nello spazio in un'area a più basso albedo che essendo verde scura assorbe più calore anche questo conta moltissimo e anche se molto trascurato spesso dall'opinione pubblica è un fenomeno importantissimo che regola il bilancio termico energetico e soprattutto tutti questi fenomeni interagiscono tra loro un riscaldamento globale magari amplificato dallo scioglimento dei ghiacciai che espongono più superficie scura oceanica al sole riscalda a sua volta l'acqua che diventando più calda accelera lo scioglimento dei ghiacciai quindi a sua volta è un fenomeno secondario di retroazione positiva vedete come questi fenomeni si riverberano e si amplificano l'uno rispetto all'altro però ancora l'aumento delle temperature degli oceani aumenta l'evaporazione dell'acqua dall'oceano che genera le nuvole le nuvole sono bianche e una maggiore copertura nuvolosa riflette più luce nello spazio l'attuale riscaldamento globale sta aumentando la copertura nuvolosa nello spazio che di conseguenza limita il riscaldamento globale quindi l'aumento dell'acqua dagli oceani crea un fenomeno di retroazione negativa perché sviluppandosi poi smorsa la sua causa vedete come sono interagenti tra loro è una continua interazione per questo è molto difficile prevedere le conseguenze di quello che stiamo facendo perché ogni volta che si cambia un elemento altri 10 rispondono con attrettanti fenomeni di retroazione attiva e positiva che si sommano creando sinergie complesse quindi la terra è un geosistema complesso e tutti gli elementi fisici chimici e dinamici interagiscono tra loro amplificandosi e smorzandosi rendendo difficile prevedere cosa veramente ci aspetta in futuro attualmente oggi in media la terra riflette nello spazio il 30 per cento della luce ricevuta dal sole che sono 340 watt a metro quadrato quindi togliendo la parte che la terra riflette nello spazio il 30 per cento oggi la superficie terrestre assorbe 238 watt a metro quadrato basta che cambia solamente l'uno per cento di questo effetto albedo in positivo o in negativo e la temperatura globale terrestre può variare in positivo e negativo di un grado che è tantissimo perché parliamo di una media tutto il riscaldamento globale registrato nell'ultimo secolo supera di poco un grado e già sta causando sconvolgimenti ambientali enormi quindi immaginate cosa può succedere se sparisse l'antartide o se sparisse la corellandia cambierebbe moltissimo il bilancio energetico planetario e quindi anche le conseguenze che questo avrebbe un altro fenomeno di retroazione positiva o negativa che sia sono le correnti oceaniche le correnti oceaniche sono i nastri trasportatori che portano il calore in giro per il mondo il calore assorbito all'equatore non rimane all'equatore ma viene portato in tutto il mondo rendendo a volte più favorevole alla vita zone a latitudini molto alte qui vediamo una mappa delle correnti oceanica globale questo ovviamente è una grande semplificazione abbiamo una corrente superficiale calda che dal nord pacifico e dal nord dell'oceano indiano confluisce verso il nord dell'oceano atlantico e poi una corrente oceanica fredda che dal nord dell'oceano atlantico ridiscende nel fondale e torna indietro nell'oceano pacifico sempre muovendosi a grande profondità questo movimento non è solamente importante per la regolazione climatica globale e per lo spostamento di aria umida che causa importanti precipitazioni in molte aree del mondo da cui poi dipende anche la vegetazione e la vita in quelle del mondo ma trasporta anche ossigeno e nutrimento nei fondali oceanici senza questo movimento gli oceani sarebbero stagnanti non ci sarebbe vita sui fondali oceanici perché non arriverebbe né ossigeno né nutrimento ci sono stati periodi della terra in cui questo meccanismo si inceppava e l'acqua di oceani non circolava questo ha creato anche una destabilizzazione climatica perché impediva al calore equatoriale di raggiungere le regioni polari aumentando quindi le differenze termiche tra le varie latitudini oggi queste differenze termiche sono molto più smorzate l'unica eccezione è l'antartide che è praticamente isolato dal resto del mondo da una corrente circo antartica che impedisce a qualsiasi corrente dall'equatore di portare calore al polo sud cosa può destabilizzare questo grande meccanismo il motore che mette in moto queste correnti oceaniche è la differenza di densità dell'acqua marina infatti l'acqua marina fredda e salata è più densa di quella più calda e meno salata questa differenza di salinità crea una differenza di potenziale che mette in moto questo meccanismo davanti alle coste islandesi l'acqua oceanica affonda in profondità per poi riemergere davanti alle coste giapponesi e del camciacta questo moto che si completa nell'arco circa di un millennio viene messo in moto proprio dalla differenza di densità dell'acqua come si può mettere in crisi un meccanismo del genere ad esempio se una grande quantità di acqua dolce finisce in mare ed è quello che sta succedendo adesso con la corellandia la corellandia è il secondo ghiacciaio continentale più grande del pianeta il primo lo troviamo in antartide e negli ultimi decenni e soprattutto negli ultimi anni il processo di scioglimento del ghiacciaio corellandese sta accelerando notevolmente immettendo nell'oceano atlantico grandi quantità di acqua dolce che ovviamente ha una densità diversa da quella dell'acqua salata e questa differenza di densità sta mettendo in crisi la corrente oceanica del nord atlantico in particolare la corrente del golfo molto importante per la stabilità climatica del nord europa per millenni questa corrente ha mantenuto mite il clima del nord europa tanto da permettere alle popolazioni umane di poter coltivare in quei territori alla stessa latitudine in canada molte società umane hanno provato a creare degli insediamenti ma spesso non sono sopravvissuti a diversi inverni rigidi perché lungo la costa del canada ridiscende dal polo nord la corrente del labrador una corrente molto fredda che rende gli inverni delle regioni nord americane molto rigidi per questo in europa la civilizzazione è stata più favorita e l'abbiamo visto come l'impero romano è riuscito anche a colonizzare l'inghilterra a volte questa corrente del golfo ha permesso all'islanda di essere un posto abbastanza abitabile e l'islanda ha visto degli insediamenti umani durare diversi periodi ma comunque non sopravvivere a lungo termine in altri momenti più duri lo scioglimento del ghiacciaio grellandese sta mettendo a rischio questa corrente già oggi notiamo da diversi anni una diminuzione della sua potenza se questo fenomeno dovesse completarsi e la corrente del golfo dovesse sparire le temperature medie del nord europa ma in particolare scandinavia norvegia potrebbero scendere anche di 5 o addirittura 10 gradi quindi un clima totalmente diverso da quello che ha conosciuto negli ultimi millenni questo è un fenomeno di retroazione negativa ovvero lo scioglimento del ghiacciaio grellandese causato da riscaldamento globale potrebbe mettere in moto dei meccanismi che vanno a bloccare una corrente che mantiene mite il clima nord europeo e quindi alla fine della giostra creare un raffreddamento regionale nord europa questo è un fenomeno di retroazione negativa la sinergia l'interferenza tra tutti questi fenomeni può creare conseguenze inaspettate come appunto un raffreddamento continentale causato da un riscaldamento globale vedete come sono complessi meccanismi geologici che si mettono in moto interagiscono tra loro abbiamo un altro grande problema che però è molto ben conosciuto dalla comunità scientifica ma ancora troppo ignorato dalla politica e dall'opinione pubblica che è il problema del permafrost questo è un vero problema di retroazione positiva nelle regioni nord del pianeta quindi siberia alaska canada e parte della gorellandia il terreno è rimasto congelato per millenni e per millenni ha tenuto sepolti sotto il suolo grandi quantità di torba e di materia organica prevalentemente vegetale ma non solo nei millenni batteri e microrganismi hanno digerito e fermentato molto lentamente questo materiale producendo grandi quantità di gas serra come co2 anidride carbonica ma soprattutto metano ce n'è talmente tanto che da solo può riscaldare il pianeta di 8 gradi viene definito dagli scienziati una bomba climatica perché da solo questo evento può spostare l'equilibrio climatico del pianeta su qualcosa di molto diverso dall'attuale qui abbiamo un grafico che mostra la quantità di gas serra trattenuti nel sottosuolo dal permafrost con i gas serra emessi dall'umanità negli ultimi tre secoli qui vediamo che sotto il permafrost sono stati stimati circa 560 miliardi di tonnellate di anidride carbonica e 60 miliardi di tonnellate di metano c'è da dire che il metano è un super gas serra ed è 23 volte più potente della carbonica quindi per poter confrontare la capacità riscaldante di questo gas con quello dell'accio 2 dell'anidride carbonica si dovrebbe fare 60 per 23 se facessimo i calcoli 23 per 60 mi viene l'equivalente di mille e 380 miliardi di 12 quindi liberare questi 60 miliardi di tonnellate di metano equivalrebbe a immettere in atmosfera l'equivalente di mille e 380 miliardi di tonnellate di anidride carbonica da aggiungere ovviamente a questi 560 che sono già presenti nel permafrost per darvi un'idea di quanto è questo gas serra che rischia di liberarsi in atmosfera con lo scongelamento di questi territori metto a confronto la quantità di gas serra immesso da tutta l'umanità da 1760 ad oggi che è solamente tra virgolette quindi un solamente relativo di 500 miliardi di tonnellate quindi l'equivalente di tutti i gas serra che potrebbe liberare questo fenomeno è quasi quattro volte superiore a tutti i gas serra immessi dalle attività umane dal 1760 ad oggi quindi veramente sarebbe una catastrofe gli scienziati chiamano questo evento bomba climatica perché da solo è capace di destabilizzare l'equilibrio climatico globale anche di molto se tutto questo gas venisse liberato in atmosfera da solo questo evento potrebbe scaldare il pianeta di 8 gradi alcuni studi più pessimistici parlano addirittura di un potenziale riscaldante globale di 12 gradi quindi stiamo parlando veramente di una catastrofe climatica è totalmente sconosciuta l'opinione pubblica anche io quando faccio lezione nelle scuole o ne parlo mi rendo conto di quanta gente non conosca questo problema e questo ovviamente fa comodo a chi vuole fare disinformazione o vuole minimizzare il problema del riscaldamento globale e spesso purtroppo facilmente ignorabile dalla politica che non vuole parlare di climatici perché è una cosa che il pubblico non conosce e quindi ovviamente sicuramente chi vuole negare i climatici non si metterà di certo a fare informazione riguardo l'emissione di gas serra da questo fenomeno non è l'unico problema che può causare ma lo scongelamento del suolo può mettere in crisi le strutture che vi sono costruite sopra ma qui vediamo una casetta però ci sono intere città in molte regioni nordiche del mondo ma anche infrastrutture civili militari industriali che stanno subendo molti danni addirittura nelle regioni più povere e più lontane dai grandi centri urbani spesso le città vengono abbandonate a se stesse e la popolazione si riversa verso i grandi centri urbani più a sud ci sono intere regioni quindi che vengono abbandonate o che stanno subendo gravi danni proprio perché questo fenomeno imponente di scioglimento del permafrost sta mettendo in crisi la capacità tecnica portante del suolo e con loro anche molte foreste anche molti alberi a volte tendono ad affondare o a cadere con il scioglimento del terreno perché spesso questo permafrost si trova anche a metri sotto uno strato di suolo attivo e scongelato dove magari crescono le foreste e quindi questo scioglimento può innescare anche eventi enormi di frane e di colamento di versante quindi non è solo un problema climatico ma anche geomorfologico e tecnicamente pratico questi sono solo alcuni dei processi di retroazione positiva negativa ce ne sono altri come il fatto che il riscaldamento degli oceani sta limitando la loro capacità di assorbire gas serra dell'atmosfera quindi se gli oceani assorbono meno gas serra dell'atmosfera questo gas serra continua ad accumularsi nell'aria accelerando il processo di riscaldamento e quindi contribuendo a riscaldare gli oceani anche questo è un altro fenomeno di retroazione positiva che si autoalimenta ma sono tantissimi altri questi fenomeni quindi possiamo riassumere i processi di retroazione in questa mappa concettuale i processi di retroazione possono essere positivi o negativi quelli positivi si autoalimentano quindi la loro evoluzione crea le condizioni favorevoli al loro sviluppo abbiamo visto alcuni esempi la fusione di ghiacciai che libera zone prima coperte da uno strato di ghiaccio bianco con zone di mare blu scuro o addirittura vegetazione verde scuro la differenza di colori della superficie modifica la capacità di questa di assorbire o riflettere la luce solare quindi il fenomeno albedo una superficie bianca ghiacciata riflette nello spazio molta più luce e quindi anche il calore di una superficie scura come l'oceano le foreste le superfici che riflettono la radiazione solare hanno un altro albedo quelle invece che lo assorbono perché più scure hanno invece un basso albedo poi un altro fenomeno di retroazione positiva che abbiamo visto è la fusione del permafrost questo terreno congelato nelle regioni artiche del pianeta che da millenni trattengono nel sottosuolo enormi quantità di gas a serra anidride carbonica ma soprattutto metano questo gas si è formato per la lenta decomposizione batterica del materiale vegetale accumulato intrappolato nel sottosuolo congelato negli ultimi millenni e lo scioglimento di questo permafrost ha come effetto la liberazione di enormi quantità di gas serra in atmosfera la quantità di questi gas è talmente enorme che da solo questo fenomeno viene definito una bomba climatica perché da solo può destabilizzare l'equilibrio climatico del mondo in modo drastico per molto tempo poi abbiamo i processi di retroazione negativi quelli che svolgendosi creano le condizioni per soffocare e quindi rallentare il proprio svolgimento e abbiamo visto l'esempio del blocco di circolazione termalina il riscaldamento globale sta facendo sciogliere la calotta glaciale della groenlandia e l'acqua dolce che si sta ripressando nell'oceano atlantico sta bloccando la corrente del golfo che mantiene mite e caldo il nord europa quindi un fenomeno di riscaldamento globale sta alimentando un secondo fenomeno di raffreddamento locale in questo caso del nord europa occidentale naturalmente i processi di retroazione positivi o negativi che siano sono molto più numerosi di quelli che abbiamo visto in questa lezione qui ho fatto degli esempi più ecradanti però a volte questi retroazioni possono essere di primo secondo terzo quarto livello perché si autoalimentano e quando se ne attiva uno a cascata se ne attivano tanti altri come un effetto domino di cui poi di fatto si hanno conseguenze spesso imprevedibili o addirittura inimmaginabili questi fenomeni di retroazione positiva negativa che siano rendono stabili o instabili i vari sistemi climatici nelle ere geologiche quindi a volte un sistema climatico può essere anche molto più stabile o meno stabile di quello che può sembrare perché spesso non si tengono conto degli effetti proprio di retroazione primari secondari terziari su tanti livelli che si attivano disattivano quando c'è un cambiamento e la grande scommessa dell'umanità è proprio questa cioè noi stiamo facendo un esperimento con la terra a volte molti scienziati definiscono il cambiamento climatico come il più grande esperimento che l'umanità abbia mai fatto e la cosa negativa è che il sistema terra è talmente complesso che non si sa bene l'effetto finale che si otterrà perché magari si attivano processi di retrazione positivi o negativi che poi possono accelerare o rallentare il cambiamento un esempio molto credente fino a vent'anni fa nessuno si aspettava che gli oceani smettessero di assorbire carbonica e quindi tutte le previsioni fatte prima del 2000 prevedevano dei cambiamenti climatici molto più lenti un classico esempio è l'accelerazione dello scioglimento della corellandia nessuno prima del 2010 si aspettava un effetto così accelerato dello scioglimento della corellandia che da sola vi ricordo se si sciogliessero tutti i suoi ghiacciai aumenterebbe il livello del mare di 6 metri e mezzo ma sono tanti gli effetti di retrazione spesso ignorati o sottovalutati che potrebbero creare problemi anche maggiori detto questo possiamo passare all'ultima parte di questa lezione che sono le attività antropiche che stanno destabilizzando il clima mondiale e cosa può fare l'umanità per limitare il suo impatto e risolvere il problema l'umanità è diventata una forza climatica al pari delle altre naturali l'abbiamo già visto in questa lezione deforestazione uso dei combustibili fossili e emissioni di inquinanti nei cicli naturali alterano il clima globale in questa mappa vediamo la densità della popolazione siamo più di 8 miliardi e la maggior parte di esseri umani vivono nel sud est asiatico tra india cina indonesia e siam questa è la regione più popolosa del mondo ed è anche quella che attualmente sta crescendo nei consumi perché sono paesi che stanno vivendo oggi una crescita economica molto importante e ovviamente con la crescita economica aumentano anche i consumi e questo è un problema per il pianeta perché già stava soffrendo con i consumi occidentali americani ed europei che da soli rappresentavano almeno un miliardo di persone tra 500 milioni di nord americani e 500 milioni europei fino al 2000 la parte ricca del mondo che consumava tanto era quella negli ultimi vent'anni con la globalizzazione e lo sviluppo economico si stanno aggiungendo altre miliardi di persone alla fetta di umanità che consuma risorse e a questo miliardo dobbiamo aggiungere oggi un miliardo e 400 milioni di indiani un altro miliardo e 400 milioni di cinesi quindi stiamo già parlando di tre miliardi e mezzo di persone che aggiungendosi al miliardo di persone occidentali aspirano ad avere livelli consumistici molto alti poi a questi vanno aggiunti le nuove economie del sud africa ma soprattutto del brasile che da solo già nel 2021 contava almeno 214 milioni di persone il brasile è un paese emergente molto popoloso quindi quando i paesi emergenti sono molto popolosi ecco che i consumi salgono notevolmente e infine a questi vanno aggiunti poco più di 670 milioni di persone nel sud est asiatico quindi quasi 4 miliardi praticamente la metà della popolazione mondiale si trovano all'interno di questo cerchio giallo l'aumento della popolazione significa anche un aumento di persone e beni esposte a rischio perché se abbiamo un terremoto ma un alluvione o un evento climatico estremo in queste zone densamente popolate avremo un gran numero di danni e di vittime india e sud est asiatico sono l'epicentro della grande esplosione demografica del mondo anche se pure l'africa hanno scherza oggi l'africa conta un miliardo di persone l'attuale tasso di crescita demografico prevede 4 miliardi entro la fine del secolo solo che l'africa attualmente è ancora un posto molto povero nel mondo e quindi nonostante la grande popolazione i consumi sono ancora limitati se la popolazione in aumento sta aumentando anche di ricchezza come appunto sta prendendo questo cerchio giallo nel sud est asiatico ecco che esplodono anche i consumi e non solo i consumi primari quindi quelli di produzione di cibo e carne e con la ricchezza aumenta anche il consumo di carne che dal punto di vista ecologico è un'industria molto più devastante di quella che può causare una dieta povera e vegetariana ma anche di consumi secondari di oggetti di cose di automobili di prodotti industriali e quindi anche di rifiuti che finiscono negli ecosistemi le attività antropiche che modificano il clima sono molte alcune sono volontarie ma la stragrande maggioranza sono involontarie quali sono le attività antropiche che modificano volontariamente il clima ad esempio l'inseminazione delle nubi seminare le nubi con polvere di ioduro di argento in determinate condizioni stimola centri di condensazione per cristalli di ghiaccio e acqua e questo può favorire le precipitazioni c'è di negativo che l'argento è un metallo pesante e quindi si va a introdurre nel ecosistema e nelle fattacquifere una sostanza inquinante però in determinati casi di siccità questo favorisce le precipitazioni indotte in una data area un altro fattore che gli esseri umani possono fare per modificare volontariamente il clima è la riforestazione a volte la riforestazione è positiva se questa è volta a recuperare aree che originalmente erano forestali e che poi sono state deforestate ma potrebbe essere negativa se per fermare l'avanzata di un deserto o di un'area in via di desertificazione si va a cambiare l'ambiente naturale di quella data aria quindi modificando anche l'albedo l'umidità dell'aria e anche gli animali e le piante autoctone che vivivano ma comunque per come siamo messi adesso nel complesso riforestare al sempre un effetto finale positivo a livello globale però non sono tantissime le azioni volontarie volte a modificare il clima la stragrande maggioranza sono invece non volontarie come ad esempio la deforestazione la deforestazione la costruzione di dighe l'agricoltura intensiva il consumo idrico eccessivo ma neanche gli alleviamenti intensivi possono modificare le condizioni climatiche locali e a volte anche continentali poi un altro grande fattore che sta modificando il clima del pianeta è l'immissione costante e continua di gas serra in atmosfera l'80 per cento della produzione energetica mondiale si avvale dell'utilizzo dei combustibili fossili bruciare combustibili fossili quindi petrolio e carbone immette nell'atmosfera grandi quantità di gas serra principalmente anidride carbonica co2 ma non solo infatti negli ultimi anni nei principali gas serra del pianeta sono aumentati notevolmente abbiamo la co2 come abbiamo visto l'anidride carbonica prodotta dall'utilizzo intensivo dei combustibili fossili petrolio e carbone poi i nitrati di azoto che vengono utilizzati moltissimo nello sviluppo intensivo dell'agricoltura e poi anche il metano che viene prodotto dai grandi allevamenti l'aumento di popolazione sempre più ricca nel mondo sta modificando la dieta che da vegetariana tende a essere sempre più carnivora l'aumento della produzione di carne per soddisfarne il consumo è sempre più in crescita stanno immettendo in ambiente grandi quantità di metano che sono prodotti di degassazione degli apparati digerenti dei bovini e di decomposizione della materia organica delle loro feci quindi enormi allevamenti immettono in atmosfera grandi quantità di metano e il metano come abbiamo già visto è un super casa serra perché da solo come effetto riscaldante un litro di metano corrisponde a 23 litri di co2 anni di carbonica vediamo un attimo uno per uno questa attività quali sono le emissioni che le attività umane emettono in atmosfera bruciando carbone e petrolio che sono le principali fonti fossili da cui la stragrande maggioranza deve essere il mondo traggono la loro energia vengono immessi in atmosfera anidride carbonica principalmente ma anche acidi dello zolfo come l'acido solforico che causa le piogge acide ma anche spesso trascurati ma molto importanti gli aneo x ovvero gli ossi di azoto che sono tanti e ne ho due e ne ho tre n2 o tre e ne ho sono tutti quanti gas che permangono poco in atmosfera col tempo tendono a essere rimossi da varie reazioni chimiche ma che nel frattempo hanno un potere riscaldante molto potente la co2 l'anidride carbonica è il gas che permane più a lungo in atmosfera ci vuole almeno un secolo affinché un litro di co2 immesso in aria venga rimosso assorbito dalla biosfera o dagli altri processi chimici e fisici geologici e quindi per questo motivo si sta accumulando perché le grandi quantità che vengono immesse dalle attività umane non riescono ad essere smaltite dalla biosfera dagli oceani dall'alterazione chimica delle rocce e da tutti gli altri processi chimici e fisici naturali invece come abbiamo detto l'acido solforico va via rapidamente ma alimenta le piogge acide che di fatto poi uccidono le foreste e avveliano gli ecosistemi i cambiamenti climatici causati dalle attività antropiche hanno quattro effetti principali visto che la concentrazione di gas sera cresce rapidamente si prevede una concentrazione già raddoppiata dall'inizio dell'era industriale entro il 2050 e quasi tre volte entro il 2100 infatti prima dell'era industriale intorno al 1800 la concentrazione di gas sera in atmosfera era di 280 parti per milione oggi siamo già arrivati a 420 parti per milione entro il 2050 è previsto sfiorare gli oltre 600 parti per milione e entro la fine del secolo è previsto una quota di anidride carbonica in atmosfera pari a 800 parti per milione e gli scenari attualmente proiettati dagli scienziati sono tre nel caso se risolvessimo il problema e cominciassimo a ridurre in modo enorme e massiccio la produzione di gas a serra entro alla fine del secolo si potrebbe avere lo scenario più ottimistico che prevede un riscaldamento compreso tra gli 09 e 2,3 gradi se invece siamo un po più realisti e proviamo a immaginare dei scenari con delle azioni di misura abbastanza plausibili gli scenari previsti vanno con un aumento delle temperature che uscilla intorno ai 3 gradi centigradi o addirittura arriva a sfiorare i 4 se invece non si fa nulla e quindi così continua a inquinare come se non ci fosse un domani abbiamo lo scenario business as usual cioè affari come sempre si arriva a sfiorare un aumento delle temperature globali di 6 gradi entro la fine del secolo vediamo che questi scenari sono previste diverse concentrazioni di gas a serra nello scenario carbon free cioè quello libero dal carbone abbiamo una concentrazione che aumenta di poco rispetto all'attuale fino ad arrivare a 580 parti per milione negli scenari più plausibili si arrivano a sfiorare addirittura i mille parti per milione per atmosfera quindi addirittura quasi a quadruplicare la concentrazione gas a serra che c'era all'inizio dell'anno industriale e poi nella peggiore dell'ipotesi si superano i mille parti per milione vi ricordo che per oltre un milione di anni se non di più prima dell'area industriale la concentrazione gas a serra non ha mai superato le 280 parti per milione adesso negli ultimi 200 anni sta schizzando a valori altissimi e ovviamente la causa siamo noi con le nostre emissioni di gas a serra in atmosfera che cosa comporta tutto questo la seconda causa ovvero un aumento delle temperature globali causa uno scioglimento di ghiacciai che a loro volta possono modificare l'effetto alberto del pianeta quindi attivando il processo di retro azione positiva che contribuisce a riscaldare il pianeta perché a superficie bianca riflettente viene sostituita superficie blu scura e verde scura che assorbono grandi quantità di radiazioni poi un'atmosfera e oceani più caldi alimentano eventi climatici estremi più intensi e più frequenti come gli uragani e non solo uragani ma anche alluvioni ma anche siccità tutti gli eventi climatici estremi diventano più estremi e più frequenti e poi ovviamente in ultimo chi sono le vittime di tutto questo sono gli esseri eventi animali e piante che reagiscono al cambiamento climatico in vari modi o alterando i loro cicli biologici dal ritardo alla riproduzione alla fioritura delle piante eccetera eccetera fino alla vera e propria estinzione perché se i cambiamenti climatici sono molto estremi tante specie soprattutto le più delicate possono non riuscire a sopravvivervi e quindi questi cambiamenti climatici potrebbero causare un importante evento di estinzione di massa di cui già oggi stiamo rilevando preoccupanti segnali ho detto che i gas sara principali sono metano anidride carbonica e ossidi di azoto e negli ultimi anni l'utilizzo di combustibili fossili ne stanno aumentando notevolmente la quantità in atmosfera e qua da caso proprio l'aumento delle temperature coincide con questo aumento di concentrazione gas sara i gas sara vengono prodotti non solo dalla combustione di combustibili fossili ma anche da allevamenti e agricoltura intensiva che distruggono ecosistemi e immettono in atmosfera grandi quantità di rifiuti spesso questi rifiuti generano o sono gas sara infatti tutte le attività agricole e di allevamento rappresentano da soli un terzo delle emissioni di gas sara globali nei prossimi decenni si prevede un grande aumento di produzione di carne e latte in india e cina proprio perché aumentando la ricchezza di queste popolazioni aumenta il consumo di carne e di latticini e questo ovviamente va a favore della produzione di casse serra e qui vediamo un aumento della produzione di carne nel mondo dal 1961 alle proiezioni prossime vediamo che sono aumentate in tutto il mondo la produzione di carne e produrre carne significa distruggere foreste per coltivare mangime quindi soia e devastare ecosistemi con l'emissione dei bacini acquiferi e quindi anche mare delle scorie di questi animali quindi a volte interi fiumi vengono letteralmente riempiti di feci che non solo soffocano la vita acquatica di fiumi e laghi ma producono enormi quantità di metano le attività umane non si limitano a immettere gas sara in atmosfera ma vanno a distruggere quegli ambienti naturali che naturalmente assorbirebbero l'anidride carbonica dell'atmosfera la deforestazione è un grosso problema e sta aumentando nel mondo proprio perché per produrre carne e coltivare grandi appezzamenti di terreno devono essere distrutte grandi aree forestali e le foreste sono la componente della biosfera che maggiormente rimuove il gas serra dall'atmosfera già in condizioni normali l'anidride carbonica impiega almeno 100 anni per essere rimossa dall'atmosfera se si vanno a distruggere anche quegli ambienti naturali che l'assorbono ecco che si allungano i tempi di permanenza peggiorando le condizioni perché si vanno a creare un effetto accumulo sempre maggiore di gas serra che auto amplifica il processo infatti spesso le foreste non vengono distrutte solamente dalla deforestazione per coltivazione ma lunghi periodi di estricità causati dal riscaldamento globale che alimenta questi eventi estremi causano incendi che nell'arco di pochi mesi possono devastare enormi aree di foresta ed immettere grandi quantità di gas serra anche questi grandi incendi che a volte possono interessare intere fasce continentali o gigantesche regioni sono a loro volta delle piccole bombe climatiche perché in un solo evento viene immessa un'enorme quantità di gas serra un grande incendio che colpisce un'area del canada o della siberia quindi in zone incontrollabili possono nell'arco di poche settimane immettere la stessa quantità di gas serra che le attività umane di un piccolo paese come l'olanda o il belgio immettono in un anno quindi sono vedere le proprie micro bombe climatiche nel mondo la deforestazione va a due tempi nelle zone nordiche del mondo stanno aumentando le foreste perché il ritiro degli acciai rende le regioni nordiche più favorevoli alla vigilazione arborea mentre nelle zone equatoriali l'intenso sfruttamento di queste foreste da paesi via di sviluppo sta distruggendo la cintura di foreste tropicali che da millenni avvolge l'equatore terrestre e qui vediamo in queste due mappe la copertura forestale originaria terrestre all'inizio dell'olocene e quella moderna come vedete abbiamo perso dall'inizio dell'attività umane almeno la metà delle foreste originarie in questa mappa vediamo in giallo e in verde i paesi dove la deforestazione è ridotta o addirittura è minore della ricrescia delle foreste un dato molto interessante di questi ultimi anni è che negli stati uniti in india e in cina le foreste stanno aumentando mentre in rosso sono i paesi dove la deforestazione sta distruggendo enormi aree di foreste come appunto il brasile la bolivia il congo e il sud est asiatico che ospitano le importantissime foreste pluviali l'aumento delle temperature sta riscaldando rapidamente le zone tropicali cioè quelle che si trovano intorno a 30 gradi di latitudine nord e sud di due emisferi in particolare queste fasce si stanno allargando a spese delle aree normalmente a clima temperato e ce le stiamo accorgendo anche noi in italia con desertificazione in alcuni punti e aumento delle precipitazioni in altre aree che sono abituate ad avere un clima temperato cominciano ad avere le caratteristiche di eccessi climatici delle aree tropicali con un eccesso di precipitazioni in alcuni momenti dell'anno per alcune aree e un allungamento o aumento dei periodi di siccità in altre aree e questo è proprio quello che stiamo vedendo nel mediterraneo in particolare in italia un pianeta più caldo significa oceani e atmosfera più calda e il modo con cui tutto questo calore assorbito dall'idrosfera e dall'atmosfera viene speso è quello di generare i temporali negli ultimi anni stanno aumentando l'intensità e la frequenza degli eventi estremi ad esempio gli uragani nell'oceano atlantico più l'oceano è caldo più energia viene utilizzata per alimentare questi fenomeni infatti abbiamo già visto in altre lezioni che è proprio l'acqua calda dell'oceano che stimola e alimenta la formazione degli uragani più l'acqua è calda più gli uragani hanno tempo e modo di caricarsi di potenza ed energia mentre sono sull'oceano e quando impattano lungo le coste sfogano tutta questa energia lungo gli insediamenti umani però quali sono le conseguenze principali di questa tropicalizzazione del clima l'abbiamo detto siccità in alcune regioni del mondo e aumento delle alluvioni in altre quindi zone che sono abituate a un certo regime idrografico di colpo subiscono eventi estremi che vanno a creare grandi influenze sul regime dei fiumi e quindi anche sugli ecosistemi che ospitano poi abbiamo il riscaldamento delle acque oggi il mediterraneo è un mare sempre più caldo e sta diventando un ambiente ostile per le sue specie autoctone mentre molto più favorevole per specie che vengono da mari più caldi infatti dal mar rosso arrivano molte specie invasive attraverso il canale di suez che sta in egitto e molte specie del mar rosso vanno a invadere e occupare le nicchie ecologiche di specie autoctone che sono costrette a migrare verso nord se non addirittura a sparire se non hanno modo di trovare un ambiente simile che possa ospitarle poi l'aumento delle siccità sui continenti crea le condizioni per cui foreste che sono abituate ad avere un certo regime idografico si seccano e possono bruciare e proprio questi incendi che trasformano le foreste in praterie perché una volta che una foresta viene distrutta con un nuovo regime pluviometrico magari non ricresce come prima ma diventa un ambiente che sostiene una vegetazione diversa come appunto una prateria e questo ovviamente va a scapito di molte specie il mediterraneo sta diventando una periferia del mar rosso con le specie invasive che arrivano attraverso i canali di Suez mentre ambienti che spariscono del tutto come i ghiacci artici condannano le specie che si sono adattati ad essi oggi gli orsi polari hanno una massa macorporea del 30 per cento in meno rispetto a qualche decennio fa perché essendo un ambiente più ostile per loro c'è meno cibo e riescono anche a riprodursi di meno quindi i cambiamenti sono un vantaggio per alcune specie perché si espandono occupando le nicche ecologiche di altre specie mentre sono uno svantaggio per altre specie perché riducendo il loro habitat le condannano a una riduzione della popolazione o addirittura purtroppo all'estinzione il fatto per cui alcune specie acquisiscono un vantaggio e l'altra uno svantaggio alla fine destabilizza gli ecosistemi in siberia l'aumento delle temperature e quindi la riduzione dei periodi freddi sta favorendo la proliferazione di alcune specie che si nutrono del tronco degli alberi e di fatto uccidono le foreste quindi un clima più mite in ambienti abituati ad essere molto freddi può comunque essere uno sfavore per le specie che per millenni si sono adattate a quel clima ad esempio in italia assistiamo a un anticipo di più di un mese della fioritura della mimosa la mimosa che da sempre conosciuta come il fiore della primavera perché fiorisce a marzo già da qualche anno comincia a fiorire a gennaio quindi addirittura si è anticipata di più di un mese la fioritura di una pianta e questo vale per tutta l'agricoltura colture e ecosistemi che sono sincronizzati tra loro con animali che si risvegliano dall'etargo in tempo per la fioritura di alcune specie con queste anticipazioni e sconvolsoramente dei loro orologi biologici mancano l'appuntamento e quindi a volte la nascita di larve o l'uscita dall'etargo di animali superiori spesso può mancare o non coincidere con la fioritura e quindi la massima resa di molte piante e questo ovviamente ha anche conseguenze economiche sull'agricoltura perché vediamo territori che sono adatti da millenni alla vite diventare più ostili per questa cultura e oggi si comincia a coltivare l'uva in inghilterra e addirittura in scozia e la novità da pochissimi anni è che stanno sperimentando coltivazioni di caffè in sicilia questo perché essendo il caffè una pianta tropicale con l'espansione della fascia tropicale la sicilia comincia ad avere un clima adatto alle culture di caffè quindi non è uno svantaggio totale per tutte le specie è un vantaggio per alcune uno svantaggio per altri però alla fine destabilizzare ecosistemi che sono sincronizzati in equilibrio tra loro da millenni comunque porta ad avere delle perdite quindi delle estinzioni di specie animali vegetali che vengono perse per sempre un'altra grande conseguenza del riscaldamento globale è lo scioglimento dei ghiacci sia marini che continentali entrambi hanno conseguenze sul clima il primo c'è quello marino ha la sola conseguenza che comunque non è poca di sostituire ad una superficie terrestre ad alto albedo che molto riflettente di colore bianco una superficie terrestre di basso albedo poco riflettente e invece molto assorbente la radiazione solare come quella dell'oceano blu scuro o delle zone verdi continentali oltre a questo effetto importante lo scioglimento dei ghiacciai continentali ha un altro effetto ovvero quello di apportare altra acqua agli oceani e quindi aumentare il livello del mare oggi le zone costiere sono a rischio perché l'aumento dello scioglimento dei ghiacci sta portando tanta altra acqua agli oceani e questa sommata all'espansione termica dell'acqua più calda tende a invadere le terre basse oggi oltre il 50 per cento dell'umanità popola le coste quindi il 50 per cento della popolazione umana è a rischio perdita di case e attività lavorative perché queste aree sono a rischio inondazione già oggi abbiamo segnali critici in città come venezia come miami in florida dove le alte maree e le tempeste danno il peggio di sé già oggi a volte a venezia le maree superano abbondantemente il metro però in futuro sarà sempre peggio entro il 2080 la calotta glaciale artica potrebbe essere una calotta stagionale e questo significa che una grande parte della superficie terrestre diventa una superficie molto assorbente e poco riflettiva modificando il suo albedo e quindi alimentando un meccanismo di retrazione positiva cioè accelerando ulteriormente riscaldamento è molto preoccupante il caso della gruellandia tutto il ghiaccio gruellandese da solo è capace di aumentare il livello del mare di oltre sei metri e mezzo e l'accelerazione del riscaldamento che si sta registrando in questi anni sta cominciando ad avere degli effetti che gli scienziati fino a vent'anni fa prevedevano solamente tra qualche decennio sta aumentando notevolmente lo scioglimento della calotta di ghiaccio specialmente lungo le coste in questo grafico vediamo dove abbiamo diminuzione di ghiaccio e dove c'è aumento le aree in riduzione sono maggiori di quelle in aumento quindi di fatto la calotta di ghiaccio gruellandese si sta sciogliendo e lo sta facendo sempre più rapidamente oltre al solito effetto albedo che trasformerà questa grande isola da una grande superficie riflettente della radiazione solare a una molto assorbente l'altro importante effetto che causerebbe è l'immissione di un enorme quantità di acqua dolce nell'oceano atlantico che andrebbe a modificare la circolazione termalina che sostiene la corrente del golfo la corrente del golfo è fondamentale per avere un clima mite in nord europa quindi qui vediamo un fenomeno di retroazione negativa in cui un riscaldamento globale potrebbe causare un raffreddamento di un'aria continentale vedete quante sono le interconnessioni sempre più complesse di quello che uno può pensare tra i vari giosistemi e quindi la loro imminente o comunque imprevedibile modificazione dovuti ai cambiamenti climatici ancora anche in montagna abbiamo problemi perché lo scioglimento del permafrost montano e dei ghiacciai sta esponendo fianchi montuosi all'erosione e questo accelera l'erosione inoltre lo scioglimento dei ghiacciai sta rimuovendo molto peso sulle montagne e queste si stanno sollevando per isostasia in alcuni casi sono stati registrati sollevamenti di 0,9 mm all'anno per le zone alpine ovvero tutti i ghiacci che si sono sciolti negli ultimi decenni hanno alleggerito le montagne e queste per isostasia ovvero per galleggiamento della crosta terrestre sulla stenosfera subendo un carico minore reagiscono sollevandosi e quindi trovando un nuovo equilibrio isostatico con la stenosfera questo sollevamento mette in moto assestamenti che aumentano notevolmente il rischio di frane inoltre grandi quantità di ghiacciai che si sciolgono causano enormi inondazioni ed è quello che è successo con l'alluvione del ghiacciaio di eiger in svizzera dove lo scioglimento di questo ghiacciaio ha causato alluvioni nelle valle abitate sottostanti le attività umane che stanno modificando il clima agiscono su due fronti ed è proprio su questi due fronti che bisogna lavorare per affrontare il problema e cercare di limitare o risolvere del tutto l'alterazione climatica uno dei fronti l'abbiamo visto ampiamente in questa lezione sono le emissioni di gas serra in atmosfera che ha veramente molte fonti l'altra invece sono le varie attività umane svolte sulla terra che alla fine della giostra contribuiscono anche loro al riscaldamento globale cominciamo dal primo fronte il 57 per cento di tutti i gas serra prodotti dalle attività umane sono costituiti dalla co2 l'anidride carbonica prodotta utilizzando combustibili fossili quindi basterebbe anche se non è facile smettere di utilizzare combustibili fossili per eliminare almeno la metà delle emissioni di gas serra in atmosfera il problema che non è facile perché tutto il mondo va avanti utilizzando petrolio e carbone anche se negli ultimi anni sta aumentando notevolmente l'utilizzo di fonti energetiche alternative dal nucleare alle rinnovabili ancora non è possibile soddisfare tutto il fabbisogno umano solamente con queste un altro 20 per cento invece arriva ad altre fonti produrre cemento produce anidride carbonica negli ultimi anni soprattutto durante la globalizzazione e l'industrializzazione di molti paesi poveri specialmente quelli del sud est asiatico e di tutto il pacifico in particolare la costruzione di nuovi edifici e la modernizzazione di enormi città ha utilizzato così tanto cemento da contribuire con un'enorme fetta all'immissione di gas serra in atmosfera ma abbiamo anche gli ossidi di azoto prodotti in molte industrie che da soli rappresentano l'8 per cento delle emissioni un 1 per cento del composto del fluoro e un 14 per cento del metano che come abbiamo visto deriva dalla produzione agricola ma soprattutto dagli allevamenti e dalla produzione di carne paesi sempre più ricchi stanno aumentando il loro consumo di carne e quindi anche la produzione di metano l'altro fronte invece sono tutte quelle attività svolte dagli esseri umani che contribuiscono all'alterazione climatica la produzione energetica che purtroppo utilizza ancora oggi gran parte i combustibili fossili e da sola rappresenta il 26 per cento poi abbiamo un 3 per cento dovuto allo smaltimento dei rifiuti un 8 per cento per la costruzione e la climatizzazione degli edifici il 13 per cento per i trasporti il 14 per cento per l'agricoltura il 17 per cento per il disboscamento e il 19 per cento da tutte le industrie del mondo se vogliamo risolvere il problema climatico dobbiamo agire su tutti questi punti almeno limitando o aumentando l'efficienza quindi continuando ad avere le stesse attività ma nello stesso tempo inquinando di meno perché ancora oggi in tutte queste attività ci sono molti sprechi in questo grafico vediamo alcuni scenari per il ventunesimo secolo abbiamo scenari ottimistici e scenari meno ottimistici se continuiamo a inquinare come sempre come se non ci fossero domani senza preoccuparci del futuro e quindi lo scenario peggiore chiamato business as usual prevede un riscaldamento che arriva a sfiorare i 6 gradi entro l'anno 2100 se invece risolviamo tutti i problemi e agiamo su tutti i punti appena visti tanto da trasformare la nostra società in una società carbon zero o totalmente free carbon ecco che entro l'anno 2100 si prevede un riscaldamento di poco più di due gradi questo perché comunque il riscaldamento è aumentato però questo scenario prevede una diminuzione di gas serra e quindi anche una diminuzione del riscaldamento globale che possa cominciare a svolgersi dal 2040 in poi e prevede quindi una diminuzione di gas serra entro l'anno 2100 se invece vogliamo essere veramente realistici e quindi affrontare questi problemi uno per uno ma in modo realistico considerando che comunque queste attività ci servono e servono all'umanità per andare avanti si prevede un riscaldamento massimo che possa sfiorare i 4 gradi nella peggiore delle ipotesi o a malapena 2 nella migliore delle ipotesi comunque in tutti gli scenari è previsto un riscaldamento rispetto all'attuale perché oramai i cambiamenti climatici sono cominciati non si può più tornare indietro si può solo limitare il danno e quindi fare in modo che il futuro sia un po più rosio e non catastrofico quindi trasformare gli attuali cambiamenti climatici da catastrofici a molto problematici è comunque già un grande traguardo ci saranno dei danni in futuro ci sarà un cambiamento climatico che comunque è inevitabile ma si può comunque lavorare sul lungo termine per evitare gli scenari peggiori e ammortizzare i danni con la preparazione a quello che ci aspetta quindi tempeste più forti siccità più lunghe alluvioni più pesanti ma anche incendi più grandi e così via sicuramente è una sfida che l'umanità deve affrontare nel prossimo secolo a tutto questo come agisce il mondo dal 1992 vengono fatte conferenze internazionali per provare a darsi una legislazione internazionale e limitare questi danni è ovvio che parlando di economia di soldi e di potere è molto difficile convincere i vari paesi del mondo ad autoregolarsi anche perché c'è molta competizione tra di essi il risparmio energetico di un paese che rispetta le regole potrebbe rappresentare un vantaggio per un altro paese che invece le regole non le rispetta ed è stato emblematico il caso della copp di parigi l'acronimo copp significa conferenza delle parti in cui tutti i paesi del mondo si incontrano per affrontare il problema del cambiamento climatico la copp 2016 è famoso per l'accordo di parigi in cui anche se gli stati uniti di trump hanno deciso di ritirarsi i paesi si sono impegnati a impedire che la temperatura globale salga sopra 1.5 gradi al massimo due questo perché secondo gli scienziati se si superano i due gradi le conseguenze dei cambiamenti climatici potrebbero essere veramente molto pesanti per gran parte del mondo non solo per desertificazione e per intensificazione degli eventi climatici estremi ma anche per il rischio della sicurezza alimentare di gran parte del mondo purtroppo in quest'anno l'america aveva una governance molto ostile alle tematiche ambientali e nel 2016 trump decise che questo accordo di parigi non era vantaggioso per l'america anche se l'america è uno dei paesi più inquinanti al mondo decise di ritirarsi per fortuna cambiata amministrazione nel 2020 biden decise che il cambiamento climatico è una priorità nazionale anche per l'america e quindi l'america è tornata ad aderire a questo accordo ma non è l'unico ogni anno c'è una copp e ci sono tanti altri incontri nel 2016 ci fu l'accordo di kigali in ruanda molto poco conosciuto dall'opinione pubblica ma molto importante per la lotta ai cambiamenti climatici perché mette al bando un super gas serra facciamo un passo indietro nel 1989 l'accordo di montreal ha bandito i gas cfc cloro fluoro carburi che sono gas che causavano e causano ancora oggi il buco dello zono sostituendoli con un altro tipo di gas che è innocuo per lo zono però gravemente pericoloso per l'effetto serra perché è un super gas serra ovvero un litro di questo gas riscalda quanto centinaia di volte un litro di ciò due quindi è un gas serra molto più potente dell'anidride carbonica allora durante questo accordo si decise di bandire completamente questo gas vi ricordo che cosa è successo a montreal nel 1980 la nasa scoprì un buco nello strato di ozono sopra l'antartide questo buco era causato dai cloro fluoro carburi gas utilizzati nelle bombolette spray e nell'industria dei frigoriferi ovviamente non essendo grandi lobby al potere di questo settore economico è stato facile per tutti i paesi del mondo decidere di bandirli e sostituirli con un gas surrogato appunto gli hfc ovvero gli idrogeno fluoro carburi che non bucano lo zono però riscaldano moltissimo l'atmosfera sono gas molto limitati però in molti paesi del mondo lo sviluppo economico della globalizzazione ha cominciato a aumentarne la produzione l'accordo di montreal funziona ancora ad oggi tanto che durante lo sviluppo industriale della cina all'inizio degli anni 2000 è stata individuata una zona industriale di quel paese dove si è cominciato a produrre in modo massiccio cfc e lì tutto quanto fu fermato subito questa storia quella del buco dello zono ha un lieto fine perché oggi i cfc sono totalmente banditi e le attuali previsioni dicono che il buco dello zono sarà chiuso entro l'anno 2065 vi ricordo che la terra è un sistema talmente grande che quando noi facciamo un'azione oggi questa azione avrà effetti decenni se non addirittura secoli nel futuro l'anidride carbonica impiega almeno 100 anni per essere rimossa dall'atmosfera quindi tutte le azioni che noi facciamo oggi per limitare le emissioni daranno dei frutti tra decenni se non addirittura tra un secolo l'obiettivo finale sul lungo termine è proprio quello di tornare ad avere un equilibrio climatico simile o compatibile con quello pre industriale anche se ormai il mondo cambierà e quello che si può fare è cercare di limitare i danni e di riuscire ad adattarsi al nuovo equilibrio climatico anche l'ultima conferenza delle parti la numero 27 che si è tenuta in egitto nel 2022 ha dato buoni risultati i temi più importanti affrontati sono stati la natura in cui in questo tema che è stato trattato si è dichiarato bene che non è possibile mantenere l'obiettivo dell'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi senza intervenire per limitare la deforestazione senza trasformare i sistemi alimentari e quelli di sfruttamento del suolo e senza proteggere gli ecosistemi oceanici quindi se non limitiamo l'impatto umano sugli ecosistemi globali non è possibile raggiungere questo obiettivo quello prefissato nella copp di parigi del 2015 non possiamo limitare il riscaldamento della terra a 1.5 gradi se non tuteliamo gli ecosistemi perché sono loro che equilibrano il clima del pianeta rispetto a questo tema è molto rilevante la menzione della conferenza delle nazioni unite sulla biodiversità estilata nella copp 15 dove i paesi partecipanti hanno preso degli impegni per costruire un quadro globale a tutela della biodiversità poi l'acqua il cambiamento climatico sta incidendo fortemente sugli eventi estremi connessi all'acqua come inondazioni e siccità per questo bisogna agire quanto prima per tutelare la più importante risorsa per la vita umana e non solo ancora il cibo si tratta di un tema estremamente importante la sicurezza alimentare è uno dei punti più minacciati dai cambiamenti climatici se grandi parti della terra diventano inospitali per l'agricoltura miliardi di persone possono morire di fame dal momento che i sistemi globali di uso cibo tra terra e oceani rappresentano più del 12 per cento del pil globale e oltre del 40 per cento dei posti di lavoro del mondo è fondamentale impedire che i cambiamenti climatici possano minacciare questo punto particolare poi abbiamo il fenomeno della decarbonizzazione un altro punto fondamentale su cui lavorare è ridurre le emissioni dei gas serra in atmosfera ed è questo è sempre stato uno dei temi portanti delle copp che si sono susseguite negli anni ed è estremamente rilevante per il raggiungimento degli obiettivi climatici perché sono proprio l'ingente emissioni di questi gas serra in atmosfera come abbiamo visto in questa lezione ad essere la causa prima del mutamento climatico e ancora l'andamento climatico mai stato così necessario dato l'aumento degli impatti disastrosi dei cambiamenti climatici che stanno aumentando di intensità e frequenza tempeste alluvioni ondate di calore o lunghi periodi di siccità sono tutti fenomeni che negli anni stanno aumentando in frequenza e intensità si pensa ad esempio alle alluvioni che ci sono state a fine agosto in pakistan ma anche noi in italia quest'estate ci siamo resi conto che qualcosa è cambiato l'italia principalmente è colpita da siccità sempre più lunghe e ondate di calore sempre più intense questo ovviamente avrà conseguenze non solo sulla salute umana ma anche su molti settori dell'economia primo di tutti l'agricoltura ma anche sugli ecosistemi le nostre stesse foreste dipendono dalle piogge se in italia le piogge diminuiscono rischiamo anche di perdere il nostro grande patrimonio forestale quali sono stati gli obiettivi di questa copp gli obiettivi prefissati sono stati in primis l'adattamento gli eventi meteorologici estremi ondate di calore inondazioni e incendi sono diventati una realtà quotidiana in molti posti del mondo per questo i paesi coinvolti dovranno garantire che la copp 27 compia i progressi assolutamente necessari questo proprio tra virgolette perché è una situazione importante di questo incontro verso il miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici resilienza vuol dire adattamento non possiamo fermare i cambiamenti climatici ma dobbiamo adattarci sapendo che da oggi ci saranno più eventi estremi e quindi maggiori costi per poter mantenere le nostre infrastrutture e gli ecosistemi come le foreste l'obiettivo globale sull'adattamento è stato uno dei risultati significativi della copp 26 ma la copp 27 deve essere l'occasione per compiere i progressi cruciali necessari a sollecitare tutte le parti a dimostrare la volontà politica e necessaria ai progressi verso il rafforzamento della resilienza e l'assistenza alle comunità più vulnerabili i cambiamenti climatici colpiranno maggiormente le popolazioni povere perché sono quelle che hanno le minori capacità di adattamento i paesi ricchi possono ricostruire ciò che gli eventi estremi distruggono come ad esempio un alluvione o comprare dall'estero deterrate alimentari che un evento climatico estremo nella zona ha messo al rischio ma le popolazioni povere non possono fare queste anzi a volte alimentano quel grande flusso di migrazioni che oggi si sta muovendo nel mondo ed è sempre più costituito da migranti climatici ovvero persone che abbandonano territori non più ospitali per la coltivazione all'allevamento e vanno verso aree del mondo dove si hanno maggiori prospettive di vita poi finanza alla copp 27 bisognerebbe compiere progressi significativi sulla questione cruciale dei finanziamenti per il clima sapendo che gli eventi climatici costeranno soldi vanno spesi soldi per poter affrontare questi costi ma anche per poter mitigarli ad esempio la gestione di una foresta per evitare che questa in caso di incendio possa degenerare in qualcosa di catastrofico in questo finanziamento sono compresi i 100 miliardi di dollari all'anno promessi dai paesi industrializzati in quelli in via di sviluppo per poter accelerare il processo di decarbonizzazione e installare impianti eolici fotovoltaici a posto di centrali a carbone ma non solo solo tanti i progetti di questo tipo poi ovviamente impegni e le promesse esistenti annunciati a partire dalle coppe di copenhagen e di cancun passando per parigi fino a glasgow tutte queste necessitano di un follow up per chiarire i passi avanti da compiere poi non dimentichiamoci che questa copp è la prima dopo l'inizio della guerra in ucraina quando il mondo è stato distratto da questo grande evento pocale e molti finanziamenti che erano stati adibiti alla mitigazione e all'affronto dei cambiamenti climatici hanno dovuto subire un ridimensionamento a causa degli alti costi della guerra e ovviamente questo fa perdere altro tempo all'umanità tempo che in questo momento è molto prezioso perché i cambiamenti climatici accelerano e dover pensare pure a una guerra è una distrazione che oggi proprio non possiamo permetterci poi mitigazione tutte le parti soprattutto quelle in grado di farlo e di dare l'esempio sono esortate a intraprendere insieme azioni audaci e immediate a ridurre le emissioni per limitare il riscatamento globale ben al di sotto di 2 gradi centigradi ad esempio l'europa nonostante abbia un'economia basata anche sulla costruzione di automobili a combustione si sta impegnando a riconvertire tutta la sua produzione in macchine elettriche in poco più di un decennio questo da un lato significa rinunciare a una fetta della economia e quindi anche a mettere in crisi un certo sistema economico e di lavoro ma dall'altro avendo i soldi per farlo è uno dei primi posti al mondo dove si vuole convertire il prima possibile tutta la motorizzazione da una motorizzazione a combustione e quindi produzione di gas serra a una motorizzazione elettrica quindi carbon free e poi infine collaborazione rafforzare e facilitare l'accordo nei negoziati è della massima importanza per la presidenza della coppia 27 questo per raggiungere i risultati tangibili in modo equilibrato dal momento che i negoziati delle nazi unite si basano sul consenso per raggiungere un accordo è necessaria una partecipazione inclusiva e attiva di tutte le parti interessate ora questa coppia è passata e la prossima è quella del 2023 a dubai dove ovviamente ci si aspetta un'ulteriore concretizzazione di tutto questo è ovvio che gli eventi politici e militari che si stanno sosseguendo nel mondo oggi avranno delle conseguenze ma alla fine tutte queste copp stanno delineando una linea guida globale sull'affronto e l'adattamento ai cambiamenti climatici che non si possono più evitare quello che si può fare è cercare di pilotare lo sviluppo economico mondiale per adattarsi a quello che ci aspetta vediamo in questa mappa concettuale una sintesi dell'ultimo modulo di questa lezione abbiamo le attività antropiche possono essere modificazioni volontarie ad esempio lo stimolo di piogge artificiali o la lotta alla grandine oppure nella stragrande maggioranza dei casi modificazioni involontarie dovute principalmente all'inquinamento atmosferico ma non solo la causa primaria delle modificazioni climatiche involontarie è l'aumento delle emissioni di gas sr in atmosfera l'effetto è la fusione dei ghiacciai quindi l'aumento del livello del mare ma anche la modificazione dell'effetto albedo che riflette meno radiazione solare nello spazio e quindi modifica il bilancio energetico dell'atmosfera questo ha come conseguenza la tropicalizzazione del clima quindi un aumento delle temperature globali e un aumento in molte regioni temperate del mondo a una tropicalizzazione dei suoi eventi climatici e una conseguenza immediata tutto questo è un'intensificazione degli eventi estremi esempio tipico aumento della frequenza e dell'intensità degli organi e ovviamente tutto questo ha conseguenze sulla biosfera quindi modificazioni degli areali distributivi di piante e animali avendo ovviamente la spiacevole conseguenza di causare molte estinzioni irrimediabili poi cosa fa l'umanità per poter contrastare questo fenomeno si sta organizzando con incontri il primo incontro è avvenuto a rio di janeiro nel 1992 in brasile ma gli impegni più importanti sono stati il protocollo di chioto approvato nel 1997 98 l'accordo di parigi nel 2015 e il meno famoso ma molto importante accordo di chigali che ha bandito i gas serra idrogeno fluoro carburi introdotti nel 1989 per bandire i dannosi gas buca ozono cloro fluoro carburi detto questo ho finito anche questa lezione e soprattutto ho finito anche il corso di scienze della terra se vi interessa molto la tematica sui cambiamenti climatici potete seguire il mio corso di climatologia sul mio canale youtube potete trovare questa lezione tutto il corso di scienze da terra tutto il corso di climatologia e tanto altro ancora sul mio canale youtube e sulle mie pagine social prof antonio lo iacono grazie